Hello, sono TheDuelist92 e oggi vi porterò la card review dell'espansione Risveglio, la prima espansione del nuovo set d'Arkin Saga che abbiamo in Legends of Runeterra. Prima di parlare delle carte nuove voglio parlare un po' delle release policy e delle balance policy che ha la Riot, il modo in cui fanno uscire nuove espansioni e trattano le balance patch. Sarà un discorso poco strutturato e sarà praticamente un rant. Sentitevi liberi di saltarlo perché come al solito in descrizione troverete timestamp per navigare meglio questo video che sarà un video bello lungo, ve lo dico da subito. E inoltre come al solito troverete link utili come il mio Twitch, il mio Discord e tutte le cose molto carine. Ora, innanzitutto potrete notare una cosa, potrete notare il logo del Diamond. Se mi avete seguito negli ultimi video saprete che l'ultima season è una season in cui non ho pushato il Master. La seconda season dall'uscita del gioco in cui non ho pushato il Master, questa è la seconda iconcina Diamond che ho. E l'altra volta non sono arrivato in Master perché avevo preso semplicemente quasi una season intera di pausa. Questa volta non sono arrivato in Master perché la patch, quindi la season, è durata molto meno del solito e direi molto meno del dovuto. Invece di durare due mesi interi, è durata più o meno 40 giorni. Discuteremo di quello e discuteremo dell'unico balance change che c'è stato in questa espansione, il nerf Avoid Abomination. Ok? Ora, prima di tutto discutiamo velocemente di queste due cose. Qui non cambia assolutamente niente. Semplicemente la nuova meccanica, la nuova keyword che hanno inserito nel gioco, Flow, funziona esattamente come funzionavano Deep Meditation e Eye of the Dragon. Quindi hanno rimpiazzato il testo con la keyword Flow. Fanno la stessa identica cosa. L'unico nerf che c'è stato nell'espansione è stato il nerf Avoid Abomination. Ora, questa è una cosa che mi fa abbastanza girare le palle. Perché mi fa abbastanza girare le palle? Se avete seguito abbastanza da vicino lo scorso meta, saprete che sì, mazzi Kai'Sa sono stati forti. Sono stati abbastanza solidi. Ma non sono certamente stati mazzi dominanti, tier 1 incontestato, mazzo più forte del meta, tier 0, niente di tutto questo. Al contrario, mazzi Kai'Sa vari stavano iniziando a calare nel meta qualche giorno prima dell'espansione, al punto che ho visto qualche seasonal, ho visto qualche partita di seasonal streamati su Twitch, e ho visto più di un player, soprattutto in America, giocare Action Severe, cioè giocare Demacia Shurima Midrange senza Evolve. Con questo non voglio dire che Kai'Sa fosse scarsa, era comunque tier 1, magari sul bordo del tier 2. Ma, con questo voglio dire che c'erano mazzi molto più validi. Pirate è la forza dominante del meta, ora come ora. Evelyn Biego e in genere tanti mazzi Shadow Isles, ora come ora, sono molto dominanti. Grazie, tra le varie cose, grazie al buff di Headspike. Quindi, se in questa patch mi avessero messo Nerf Avoid Abomination, Nerf Hate Spikes, che è una carta che a me piace molto, però il fatto che costi 1 la rende molto più forte proattivamente. Non ne ho mai effettivamente parlato del perché il buff a umana fosse così forte. Fondamentalmente, se io voglio giocare Headspike proattivamente, quindi non in risposta a qualcosa per ammazzarti in unità, e tu vuoi rispondere negandomi l'Headspike, spaccandomi in unità che voglio andare a suicidarmi, quello che succede è che tu probabilmente stai spendendo più risorse di me per negarmi l'Headspike. Questo è il motivo per cui, quando è passata da 2 a 1 mana, è stato un impatto così grosso e la carta adesso è così forte. Non dico di riportarla a 2 mana, ma perché deve fare 2 danni. O comunque un Nerf qualunque, anche un altro Nerf, Shadow Isles, un altro Nerf a questi mazzi molto, molto popolari, a Pirate. Tu mi dici, vabbè, Pirate è uno staple del gioco praticamente da quando c'è stato il release ufficiale di Runeterra, più di due anni fa. Vabbè, ho capito, ma non mi sembra un buon motivo per tenerlo come mazzo tier 1 sbroccato. Nerfiamo Miss Fortune, che è uno dei campioni migliori del gioco da quando è uscita. Nerfiamo qualcosa di Shadow Isles, nerfiamo qualsiasi altra cosa. Questa mi sembra veramente una presa per il culo della Riot, che ha fatto uscire la patch in cui già nerfava pesantemente Kai'Sa. E lì il mazzo Evolve se lo meritava, non dico di no. Ha fatto uscire quella patch, ha nerfato Evolve pesantemente, hanno visto 3-4 giorni di meta, hanno visto che Kai'Sa era ancora molto giocata, hanno detto ok, non è bastato, altro Nerf, via. Questo francamente mi dice che o le patch le fa qualcuno che è completamente distaccato dal meta, oppure le patch le fa qualcuno ed è costretto a confermare la patch, alloccare la patch 10 giorni prima del patch day, e non dà tempo al meta di svilupparsi. Il che, tra virgolette, tra parentesi, se il meta mi dura 15 giorni, perché 15 giorni dopo la patch mi esce l'espansione, non stiamo dando tempo al meta di svilupparsi. Questa è la prima cosa di cui voglio effettivamente parlare, il fatto che il metagame ha bisogno di tempo per svilupparsi. Questo è il primo problema. Ora, tante persone mi verrebbero a dire sicuramente, guarda, duelist, sinceramente, mi rompo il cazzo. Tante persone si rompono le palle a giocare lo stesso meta per 5-6 mesi, per esempio, e io lo capisco, e lo capisco. Soprattutto quando il meta non è molto bilanciato, o quando i mazzi giocabili sono pochi. Dice, ok, niente sotto il tier 2 è valido, ci sono 2 tier 1 e 3 tier 2, 5 mazzi in tutto in sto meta. Una volta che c'è 5 mazzi in tutto, 6 mesi, magari due di questi mazzi mi fanno schifo, capisco, capisco perché possa essere un problema. Ma Run Terra non ha avuto questo problema ormai da tanto. Sono vari meta in cui abbiamo 3-4 tier 1, 5-6 tier 2, anche i tier 3 sono abbastanza viabili. Meta molto vari, no? Ora, Run Terra è un gioco di carte. I giochi di carte sono giochi strategici. E voglio portarvi, voglio spiegare bene come funziona il meta, qual è la meccanica di funzionamento del meta. Perché tanta gente mi viene a dire, tanta gente magari che non è esattamente del mestiere, viene da me e mi dice Guarda, sì, però che falle, tutti giocano sempre gli stessi mazzi, gne 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 gne. Voglio portare 3 esempi. Il primo esempio è quello che tutti conosceranno sicuramente, parliamo di Scacchi. Scacchi è il gioco strategico più vecchio e più di successo praticamente di tutti i tempi. È un gioco che io non sono esattamente molto informato sulla storia degli Scacchi. Non sono uno storico, ma diciamo che possiamo essere tutti d'accordo che dal 1400 più o meno le regole degli Scacchi non sono mai cambiate. Quindi, negli ultimi 600 anni si è giocato lo stesso gioco con le stesse regole, con le stesse unità, con lo stesso, tra virgolette, bilanciamento. Questo a cosa ha portato? Ha portato a giocare le stesse partite per 600 anni di fila? Anche se non siete studiosi di Scacchi, saprete sicuramente che il meta negli Scacchi è cambiato molto, si è evoluto molto. In 600 anni, cioè, ci sono proprio le ere storiche, cioè ci sono modi di giocare, tipi di partite che appartengono a certe ere storiche. E certo, lì ci sono anche un miliardo di cose da aggiungere. Per un buon periodo storico Scacchi è stato un gioco riservato alla nobiltà, è stato un gioco riservato alla borghesia, a chi aveva abbastanza soldi e poteva passare il proprio tempo giocando a Scacchi e non lavorando dalla mattina alla sera. Fin qui ci siamo. È anche vero che per molto tempo Scacchi era un gioco che si accomunava a uno status sociale, quindi, per dire, fine medioevo, un gioco poco ortodosso, un gioco un po' più fantasioso, era considerata quasi un'offesa, quasi un'onta. Mentre invece, quando è arrivato il romanticismo, si è andato molto a sviluppare giocate più esuberanti, giocate che portavano a sacrifici di pezzi per ottenere posizione, tutte queste cose, è vero, eh. Il metagame degli Scacchi, tra virgolette, è stato influenzato da correnti di pensiero. Inoltre, c'è da dire che, realisticamente, c'erano molti meno giocatori di Scacchi ai tempi, di quanti ce ne sono anche giocatori di lore, che non è un gioco molto popolare oggigiorno. C'è da dire che non esisteva internet, quindi per comunicare con un altro giocatore di Scacchi, dovevi mandare lettere che ci potevano mettere settimane o anche mesi per arrivare, e spesso era più pratico scrivere un libro e farlo avere agli altri giocatori di Scacchi per comunicare le proprie idee. Una comunicazione che io adesso potrei avere con un altro master player di due ore, ai tempi ci sarebbero potuti volerti due mesi per una comunicazione del genere. Quindi, ovviamente, oggi abbiamo più mezzi, e quindi il meta si sviluppa molto più velocemente. Ma, se vi andate anche solo a dare un'occhiata molto molto vaga a come si è sviluppata la storia degli Scacchi in 600 anni, capirete che il metagame non è qualcosa di stabilito, non è qualcosa che il gioco impone. Oddio, a volte lo fa, eh? Però, non dovrebbe essere qualcosa di stabilito, è qualcosa che i giocatori stessi fanno. E' il gioco nel gioco, è il gioco di capire cosa è meglio in un certo set di regole e adattarsi a quello che fanno gli altri. Ci vuole del tempo, ci vuole tempo perché il metagame si sviluppi, perché la gente trovi risposte a quello che è forte. Vi porto un altro paio di esempi perché Scacchi è un po' troppo lontano dall'esperienza di un gioco come Lore. Starcraft è il secondo esempio che voglio portarvi, e quelli soprattutto un po' più avanti con gli anni sapranno sicuramente cosa è Starcraft. E' un gioco strategico in tempo reale. E oggigiorno Starcraft 2 è uno degli e-sport più anziani, più di successo. Ci sono patch ogni 4-5, 3-4 mesi sull'ultima espansione, ma non sto parlando di Starcraft 2, sto parlando di Starcraft 1. Un gioco riuscito più di 20 anni fa, che dopo l'uscita di Starcraft 2, quando sarà riuscito 15 anni fa Starcraft 2, ha smesso di ricevere aggiornamenti. Il gioco è lo stesso che era 20 anni fa, Starcraft 1. Eppure, è ancora giocato competitivamente, soprattutto in Corea, e il metagame, in più di 25 anni in cui è esistito quel gioco, il metagame ha continuato a svilupparsi, ha continuato a cambiare, ha continuato a essere innovato. Certo, le innovazioni arrivano con un po' di ritardo, perché arriva a un certo punto in cui la maggior parte delle cose le hai testate, ora devi testare soltanto le cose che sono incredibilmente di nicchia e che probabilmente faranno schifo, quindi arriverà un'innovazione all'anno, più o meno. Però, cioè, sono registrati casi storici in cui il meta di Starcraft è completamente cambiato, perché un player un giorno è arrivato, ha tirato fuori una build innovativa che stravolge un matchup. Queste cose esistono, ed è questo il bello del metagame. Ora, ripeto, stiamo parlando di un gioco strategico non in tempo reale, quindi dove l'abilità meccanica, la capacità del fare le cose non esiste, l'unica abilità che c'è è strategia, e in questo tipo di giochi il metagame è la cosa più importante. L'ultimo esempio, che forse è il più vicino che vi sto portando oggi, è Pokémon, e non Pokémon il gioco di carte, ma Pokémon, l'1v1 gioco a turni. Ora, per chi ha una vaga conoscenza di Competitive Pokémon, saprà che esiste VGC, il formato ufficiale, ed esiste il formato di Smogon, che è un formato creato da una community. Non vi parlerò adesso di Smogon. L'unica cosa che voglio chiarire è, in Pokémon esistono varie generazioni, e normalmente ci si concentra sulla generazione in corso. Quando esce una nuova generazione, quindi adesso siamo in generazione 8, quando c'è la 9, il meta della generazione 8 viene congelato, non vengono più fatti cambi ai vari formati. E quindi tu pensi, vabbè, alcuni formati vecchi che sono stati congelati, e quindi magari Gen 3, formato di Ruby Sapphire, Emerald, che è lo stesso da 15 anni, e dai, che palle! Invece c'è una piccola community di player, realisticamente le community non sono molto grandi per i vecchi formati che puoi ancora giocare su Smogon, ma anche in quelle vecchie community, di gente appassionata a quel formato specifico, a quella generazione specifica, si vedono cambi, si vedono cambi di continuo. Il meta si evolve, certo ci mette un po' di tempo a evolversi il meta, ma si evolve, ed è questo, ripeto, il bello di un gioco strategico. Ora, io non sto... questi sono esempi estremi, non sto dicendo che... non sto argomentando che dovremmo avere una balance patch ogni due anni, assolutamente no. Però cosa succede? Se tu non dai ai giocatori il tempo di sviluppare il meta, ripeto, il metagame è una cosa che va tra player, non è una cosa in cui il developer ci dovrebbe... cioè, ci mette o ci dovrebbe mettere molto lo zampino, in realtà, ultimamente, soprattutto i developer ci mettono sempre più lo zampino. Darci il tempo di esplorarlo, questo meta che fai, soprattutto se fai un bel meta, perché quando il meta è brutto, quando tutto quello che trovi in ladder sono i rally a zir e i counter di rally a zir, nessuno lo vuole giocare quel meta. Ma quando il meta è abbastanza bilanciato, e porca traccia, hai fatto un bel lavoro bilanciare il meta, non me lo far estinguere subito. La Riot sta seguendo una politica di balance abbastanza simile a quella che eseguono su League of Legends. Il problema è che League e Lore sono due giochi completamente diversi per quanto riguarda l'aggiunta di contenuto. In League of Legends, per chi non lo sapesse, c'è una patch ogni due settimane. Le patch non sono generalmente troppo di impatto, non vanno a toccare assolutamente tutti i campioni, ne toccano alcuni, alcuni cambi sono minimi, alcuni cambi sono un po' più grossi. Il punto è che... Scusate. In League of Legends, tutti i giocatori di League che non giocano a giochi strategici, di solito mi saltano la gola quando lo dico, ma è vero. In un gioco come League, il meta conta molto di meno che in un gioco strategico. Un gioco come League è un gioco in cui l'esecuzione è importante, mentre in un gioco strategico letteralmente non c'è esecuzione. Tu prendi la carta, la clicchi e va sul terreno. Non c'è meccanica. Quindi la strategia, quindi il metagame, quindi l'adattamento, quindi l'ottimizzazione, sono tutto. In League cosa succede? C'è una patch ogni due settimane, League ha un test server, ha il PBE, la beta aperta, e c'è anche una beta chiusa, che di solito qui non abbiamo accesso noi come player. Ma spesso e volentieri cosa fa? Si assicura semplicemente che un cambio non sia completamente fuori scala, proprio che rompe il gioco. Ogni tanto qualche cambio che rompe il gioco scappa, ma in quei casi fanno un hotfix un paio di giorni dopo e sistemano la cosa. Dopodiché dicono, ok, questo qui non è una cosa che completamente devasta il gioco. Perfetto, la buttiamo nel live server e facciamo in modo che il nostro playtest, il server di playtest, è il live server. Fanno un buff, 15 giorni di patch, la gente ha tempo di testare il gioco con quel buff, decidono se è troppo, se è troppo o poco, se lo vogliono tenere così, se vogliono cambiarlo. Questo non lo puoi fare con un gioco come Lore, non puoi continuare a stravolgere le carte continuamente. Ma la cosa ancora peggiore, il modo in cui proprio League e Lore sono incredibilmente diversi per quanto riguarda il rilascio di contenuto, è con il rilascio di nuove, di nuovo contenuto, in questo caso campioni su League o espansioni su Lore. Per chi non lo sapesse, ripeto, su League of Legends generalmente esce un campione in ogni paio di mesi? E su Lore esce un'espansione ogni paio di mesi. Quindi tu dici, vabbè, esce contenuto allo stesso ritmo. Col cazzo. A parte che un campione non è mai tanto content quanto una espansione, che in genere ha tre campioni, quindi tre archetipi, più magari c'ha un altro archetipo, o alcuni archetipi possono essere giocati in vari modi, con varie regioni, con vari mazzi, con varie strategie, l'espansione c'ha magari qualcos'altro che prende un vecchio archetipo e lo rende molto più viabile, quindi c'è molto più content. Ma in League, il gioco è suddiviso in ruoli, e quello che succede è che generalmente i campioni escono a rotazione. Quindi, se io sono un top laner, non esce un campione top lane ogni due mesi, esce un campione top ogni dieci mesi, in media. E degli altri campioni che sono usciti, sì, me ne devo preoccupare, ma non più di tanto, non cambieranno più di tanto il mio meta, il modo in cui io gioco il mio ruolo. Ok? Un po' lo cambiano, ma non più di tanto. In lore, ogni espansione, è un impatto enorme su tutti i player. Non puoi ignorare le carte che sono uscite nuove, perché te le troverai, perché ogni partita in ladder ti puoi trovare tutto. Capito? Quindi, la Riot, per quanto riguarda l'or, sta applicando una strategia a metà tra quello che dovrebbe essere fatto per un gioco di strategia e quello che invece fanno per League, perché dicono, su League funziona, prendiamo una filosofia un po' particolare e implementiamo un po' quello che facciamo su League, ma non ha senso. Non puoi farmi, non puoi cambiare le carte in tavola così tanto spesso, perché io l'ho detto e lo ripeto, soprattutto con i meta molto vari che abbiamo adesso. Se avessimo meta in cui sono giocabili solo 5 mazzi, beh, guarda, un mese è abbastanza per esplorarlo quel meta. Ma con i meta che abbiamo avuto ultimamente, un mese non basta a esplorarlo. Solo chi gioca 5-6 ore al giorno in master e playtesta come un pazzo per i tornei grind da pazzi, per loro basta un mese per esplorare un meta in cui ci sono 15-20 mazzi giocabili, ma per la maggior parte dei giocatori non basta. Questo mi porta al mio ultimo punto ed è il fatto che l'hor ha tornei ufficiali ma non li usa assolutamente per assestare il metagame in ogni in ogni patch, in ogni meta. Quello che fa la Riot è semplicemente prendere i dati di ladder. I dati di ladder possono essere misleading soprattutto perché ormai è palese prendono i dati di ladder di una quindicina di giorni prima della patch stessa. Quindi già non dai tempo alla gente già un mese non basta per capire un meta. Poi tu che decidi i cambi non in un mese ma in 15-20 giorni c'è ancora meno tempo per capire com'è il meta e quindi capire dove andare a mettere le mani. Ma soprattutto in molti giochi soprattutto giochi che hanno patch molto dilazionate giochi strategici per esempio le patch generalmente arrivano un po' dopo un torneo. Il torneo è il momento in cui i player più bravi hanno avuto modo di testare per molto tempo hanno avuto modo di effettivamente capire qual è il meta e quindi tu ti metti lì vai a studiarti i risultati del torneo li compare i risultati di ladder e ci metti delle persone che effettivamente capiscono cosa significano quei risultati che vedono e tiri fuori una patch. Rune Terra non serve manco dirlo non guarda ai tornei guarda in genere direi che guarda i primi 15 giorni di ladder il che è nonsense perché nei primi 15 giorni di ladder la gente giocherà le carte nuove giocherà quello che sembra forte non giocherà quello che risulta forte quindi la struttura torneistica di tornei stagionali esce all'espansione un mese dopo la patch poco meno di un mese dopo torneo stagionale poi esce un'altra espansione subito dopo il torneo non permette alla Riot di sfruttare i tornei che sarebbero i loro più grandi tool per gestire il balance del gioco non li possono sfruttare effettivamente per gestire il balance del gioco è una cosa fuori di testa quindi riassunto di questi 20 minuti in cui io ho blaterato sul nerf avoid abomination kaisa era forte? l'archetipo evolve è forte? beh si è tier 1? beh è il mazzo più forte del gioco? no neanche il secondo mazzo più forte del gioco ma è stato il mazzo più forte del gioco per un mese prima quindi la Riot voleva cambiare le cose boh Pirate è stato uno degli aggro più viabili del gioco da due anni sì ma Pirate è un è un archetipo iconico non lo possono nerfare va bene c'è Jay Seimerdinger che è un tier 2 solido da mesi da quando hanno baffato Vengeance Seimerdinger non mi ricordo quale dove hanno baffato per ultimo ma quando hanno fatto quell'ultimo buff Jay Seimerdinger è diventato un tier 2 solido e lo è rimasto per mesi eh ma no ma quelli sono mazzi sono mazzi che ormai sono consolidati invece volevano fare qualcosa di più nuovo eh va a guardare Belinbiego che ha fatto la scalata essere quasi il mazzo più forte del meta se gli avessero dato più tempo sarebbe probabilmente diventato il mazzo più forte del meta overall non capisco non capisco e non è che mi dia fastidio cioè vabbè sti cazzi tanto non giocherò Kaiza non giocherò Kaiza nella prossima espansione mi rode un po' il culo che l'unica l'unica cioè il mazzo di cui ho fatto l'analisi adesso è cambiato completamente non dico che è diventato inutile però Abomination non emana significa che Abomination quasi sicuramente non verrà più giocata nel mazzo quindi se il mazzo resta viabile comunque cambia molto e l'ultimo video che ho fatto è stato reso abbastanza inutile mi dà fastidio boh si ok un po' mi dà fastidio ma non è quello il punto il punto è che io vorrei avere un gioco piacevole da giocare e sinceramente Runeterra pare che si impegni cioè si impegna per tante cose ma poi su alcune cose proprio le butta lì facciamo una cosa season di tre mesi esce un'espansione quindi inizia la season un mese dopo patch grossa un mese un mese dopo se deve uscire qualche altro hotfix lo facciamo uscire a due mesi e mezzo dall'uscita dell'espansione torneo altri 15 giorni per finire la ladder magari la ladder la chiudi a 5 giorni prima non lo so ti inventi qualcosa due mesi e mezzo dopo l'uscita dell'espansione torneo dopo aver visto i risultati del torneo si decide la patch e poi si posta la patch e tre mesi dopo è uscita un'altra espansione non è difficile arrivare a una soluzione del genere e penso che andrebbe bene per tutti soprattutto in questi meta in cui ci sono una ventina di mazzi da giocare e un casual player se mi viene a dire due list mi rompo le palle a giocare sempre lo stesso mazzo gli tiro una testata perché se lo gioco le carte non costano niente e a chiunque posso listare in qualunque momento 20 mazzi almeno tier 3 alto che possono giocare in ladder quindi mi rompete i coglioni fondamentalmente sarebbe una cosa migliore per tutti i tournament player non dovrebbero playtestare con l'acqua alla gola cioè io me l'immagino la gente che ha fatto il seasonal hanno avuto 12 giorni per playtestare ma che è ma di che cazzo stiamo parlando i tournament player non devono giocare con l'acqua alla gola a playtestare 8 ore al giorno la gente che gioca abbastanza tryhard ma non vuole andare super competitive quindi non vuole playtestare per 4 ore al giorno tipo me può godersi il meta e casual player hanno più tempo effettivamente di capire cosa sta succedendo e non hanno una tempesta di roba nuova che continua a uscire anche perché poi tanta gente mi ha già fatto il discorso due list si era un terra è bello ma non ho giocato per due mesi poi sono arrivato non ci ho capito più niente c'erano due espansioni nuove 16 keyword un fottio di campioni un sacco di patch tutti i miei mazzi che avevo prima ma magari c'erano anche un po' di mazzi tutto diventato inutile e mi sono rotto le palle cioè capito si crea un ambiente non piacevole e volevo lo so che ho speso 25 minuti di un video che sarà già bello lungo per parlare di questa cosa e sono cose che più o meno ho accennato qui e lì già in video passati ma ho bisogno ho bisogno di parlarne me ne voglio lamentare ma soprattutto ho bisogno di parlarne perché sono piccole cose del genere che secondo me trattengono l'hor dal suo pieno potenziale non è un segreto l'hor non è un gioco molto popolare ormai è out da due anni e mezzo quasi tre anni non ha mai avuto un'enorme popolarità la riot non lo pubblicizza più di tanto e per la riot va bene che il gioco non abbia un'enorme popolarità quindi non faranno cose incredibili non chiuderanno i server perché ha poca popolarità insomma meno male però non lo so cioè ci tengo al successo di questo gioco veramente è uno dei giochi di carte migliori che abbia mai visto in tutta la mia vita io amo i giochi di carte quindi ci vuole tanto a capire che un'espansione ogni mese e mezzo non va bene vabbè passiamo a parlare delle carte card review a 27 minuti come diceva a parlare grande fantà un genio allora il modo in cui ho intenzione di fare questa cosa è no aspetta magari facciamo così e facciamo così il modo in cui ho intenzione di fare questo card review sarà il solito solamente che abbiamo due runterran champion Jax che permette di giocare weapon master che permette di giocare cultist a differenza di altre volte ci sono molti weapon master e molti cultist quindi cosa faremo parleremo di Ionia e Bundle le regioni che hanno ricevuto Ionia Bundle e Freljord le regioni che hanno ricevuto carte in questa espansione salteremo tutti i cultist e tutti i weapon master dopo parleremo di Kane e dei cultist parleremo di Jax e dei weapon master e poi parleremo di tutte le altre carte dell'espansione va bene vabbè perfetto chiuso ok voglio iniziare accennando che hanno introdotto un nuovo tipo di carta equipment non sono sicuro di come gli equipment funzionino perché non ho ancora play testato ma un paio di cose ve le so dire da subito sono sicuro sono sicuro al 99% che gli equipment continuano come spell anche se qui non li mette tra le spell sono abbastanza sicuro che siano delle spell card semplicemente un nuovo tipo di spell e non un nuovo tipo di carta quindi penso che per esempio puoi giocare un equipment e poi una spell e il turno dopo hai triggerato flow in ogni caso anche se così non fosse non credo che facciano una differenza enorme cambia l'interazione con qualche carta ma ovvero non dovrebbe essere troppo problema gli equipment funzionano in modo molto simile alle unità touch quindi le unità di bundle tipo yumi ovviamente non puoi giocarle come unit ma puoi equipaggiarle a delle unità che hai sul terreno puoi avere un solo equipment su un'unità se l'unità viene rimossa dal terreno l'equipment ti torna in mano mantenendo tutti i buff permanenti che hai avuto sul terreno questa differenza degli attach e che altro devo dire? tutte le stat e tutte le keyword che sono presenti sull'equipment passano sull'unità a cui sono equipaggiato quindi great hammers quando la equipia un'unità darà più 2 di attacco all'unità e overwhelm permanente ok? questa è la spiegazione basilare di cosa fanno gli equipment buona parte dell'espansione o comunque almeno metà dell'espansione più di metà dell'espansione sicuramente girerà intorno agli equipment quindi ho voluto dare una breve spiegazione di come funzionano darò delle opinioni un po' più avanti cominciamo e cominciamo da Bundle City Bundle City è probabilmente la regione più scarsa del gioco e mi dispiace dire che quello che ha ricevuto è ok ma non è assolutamente fortissimo game breaking cominciamo dal campione ovviamente vabbè ormai la sapete la storia quando parlo di una carta do voti in stelle una stella 5 stelle se c'è una carta nell'espansione che credo che sia game breaking le darò 6 stelle non credo ci sarà nessuna carta 6 stelle in questa espansione ma vedremo e cominciamo norra norra mono bundle 2 mana 1 2 elusive exo strike planta un mysterious portal nelle top 4 carte del mazzo i mysterious portal sono una nuova una nuova meccanica che è stata data un nuovo tipo di boon che è stato dato a Bundle City sono boon esattamente come le chime e quasi tutte le carte che le plantano le plantano sulle top 4 carte del mazzo non so se c'è qualcosa che non le planta sulle top 4 e quando peschi un mysterious portal evochi un random follower costo 2 o costo 3 se il tuo se il board è pieno ne crei una copia 0 mana fleeting in mano così non hai buttato il boon se il terreno è pieno ora i mysterious portal sono un concetto molto interessante da quello che ho letto nelle patch note non puoi tirare fuori tutte le unità costo 2 sono state tolte le unità che hanno effetti play sono state tolte le unità come solitari monk quindi è meno random di quello che sembra puoi aspettarti uno stat line che va dal 4 stat totali al 5 stat totali per la maggior parte dei mysterious portal a volte erano degli effetti overall i mysterious portal promuovono un gameplay abbastanza swarm abbastanza swarm oriented quindi riempire il terreno con unità il fatto che metti il boon in una delle top 4 carte del mazzo ovviamente è fastidioso perché potrei giocare norra attaccare e poi pescare turno 3 i mysterious portal questo è molto tempo oppure potrei giocare norra attaccare e poi il mysterious portal lo pesco a turno 6 è molto meno tempo quindi c'è della randomicità ma dato che vengono piantate sempre nelle top 4 carte e che ci sono più parecchie carte che le plantano nelle top 4 devo dire che però sarà abbastanza consistente tirare fuori le unità dai portal quindi come meccanica c'è da vedere quanta varianza aggiunge ma per ora non mi dispiace troppo ovviamente i mysterious portal quello che faranno sarà andare a riempire il board di unità relativamente piccole quindi poi ci metti a fianco o qualcosa tipo lulu e piltover o ci metti qualcosa tipo demasia con inspiring light doveva fare giochi per un terreno enorme norra di per sé 2 mana 1 2 elusive nexus strike planta un boon planterà abbastanza boon alle statistiche alle stesse stat è un funzionamento molto simile all'altra che non ricordo adesso come si chiama la 2 mana 1 2 elusive che quando attacca ti crea un gufo in mano questa invece ti crea un portal in cima al mazzo che sicuramente un'unità da porta l'avrà più value di un gufo di base è decent ma quando hai pescato quando hai creato quando hai evocato sei o più alleati creati quindi da boon ma anche da altre carte perché ricordiamoci Bandor City è pieno di carte che generano carte quindi sarà relativamente veloce livellare norra non so quanto veloce non so turno 4 turno 5 sarà livellata immagino quando norra è livellata ha lo stesso ah più 1 più 1 ovviamente il che è un grosso stat buff stesso identico effetto ma effetto passivo i tuoi misterius portal ora evocano un'unità da 4 5 6 o 7 mana questo vuol dire che il valore che ti aspetti da un misterius portal invece di essere tra 4 tra 4 di stat totali e 7 di stat totali adesso ti puoi aspettare molte più stat non ho fatto il conto non ho fatto la media non mi interessa non è per questo che sto facendo questi video c'è da dire che bisogna vedere in genere quanto sarà viabile un archetipo che genera molte unità ha molte carte boon e pesca abbastanza perché anche solo con un po' di draw power diventa molto più consistente pescare le boon e se tutto questo funziona bene norra sarà estremamente forte se però questo archetipo non dovesse funzionare norra sarà borderline inutile le dot 3 stelle per ora la carta non è assurda l'effetto base è forte ma è qualcosa che vedrei tranquillamente bene come una unit e norra livellata aumenta il value di ogni singolo boon di ogni singolo portal ma non so effettivamente quanto cioè aumenta il value di ogni portal ma non so esattamente di quanto quindi in base a quanto tempo ci mette norra a evolversi decideremo quanto effettivamente è più forte che porta l'evochino roba più grossa inoltre siamo in bundle quindi è difficile proteggerla un'unità del genere se ce la seccano i boon i misterius portal continueranno a generare costi 2 costi 3 a turno 7 che magari è completamente inutile quindi 3 stelle direi che vado sul sicuro origami slicer un mana 0-0 equipment tra l'altro gli equipment possono essere giocati con spell mana come le spell questa è una cosa che non ho specificato ma la specifichiamo adesso dammi più 1-0 per ognuna delle tue trap o boon che sono state attivate in questo game quindi trap funghi flashbang boon bard e misterius portal sinceramente origami slicer 2 stelle non la vedo forte a meno che il mazzo a meno che non verrà giocata in qualcosa tipo in un mazzo ricco di elusive per esempio se viene giocato in un mazzo ricco di elusive ovviamente questa carta è grossa non credo che bundle possa giocare un mazzo ricco di overwhelm soprattutto non con il concetto che deve attivare trap e boon quindi con cosa ci lascia deve essere giocato in una sorta di norra timo o norra lulu pieno di elusive con origami slicer se può funzionare questa carta è forte 2 stelle molto limitante in ogni caso junk construct 2 mana 2 2 fe che è relativamente importante da notare last breath pianta un mysterious portal la carta relativamente generica soprattutto per massi fe diamo le 3 stelle come norra prenderai un portal lo prendi praticamente sempre un po' più consistente di base norra nel prendere portal anche se norra ovviamente ha l'effetto del develop magical journey tra l'altro ricordiamo che portal palusa è la champion spell di norra ne parlerò più avanti magical journey 2 mana burst planta un mysterious portal e 3 chime ah un mysterious portal nelle 4 carte nelle top 4 carte e 3 chime su carte random del mazzo boh una stella 2 stelle 2 stelle perché ha chime nel nome quindi può essere giocata per bard e bard è un archetipo noto per avere poche carte quindi giusto perché può essere può essere nell'origine di bard non le diamo una stella sola però magical journey 2 mana 2 mana spell fai niente finchè non peschi il portal e quando peschi il portal sei più o meno in pari e poi piantato 3 chime a caso non credo proprio shersys è una carta weapon master ne parleremo più avanti mega pulverizer 3 mana 3 3 per giocarmi scarta 1 una stella non credo che sia anche se discard bundle city non fosse terribile non credo che sarebbe gioco anche se discard bundle fosse ok non credo giocheresti mega pulverizer soprattutto quando discard bundle non è il massimo l'unica cosa c'è da dire che i mazzi che spammano unità piccoline quindi tipo norra lulu timo lulu questo tipo di cose mega pulverizer potrebbe essere una scelta molto di nicchia soprattutto i mazzi che giocano con flame chompers anche lì non so se basta anche perché quel tipo di mazzi hanno ricevuto vari nerf boom baboon eccetera eccetera ma l'idea di fare che ne so mega pulverizer scartando una flame chomper e dare più 3 più 3 a un'altra flame chomper per 3 mana non è male quindi 2 stelle dai io le do 2 stelle team maker quando sono evocato planta un planta un misterius portal una stella sinceramente se lo evochi da boon se lo evochi da portal è good se lo devi giocare di main 3 mana 3 1 per plantare un portal non credo proprio non credo esistano combo incredibili anche il fatto che fe lo puoi scontare con la gleaming lantern non dovrebbe bastare a renderlo viabile via wandering shepherd e weapon master ne parleremo più avanti living library 5 mana 4 3 elusive quando sono evocato se una delle tue trappole o boon sono state attivate in questo round pesca 1 2 stelle non credo anche in un mazzo che attiva trappole e boon ogni turno 5 mana 4 3 elusive pesca 1 mi sembra ancora un po' poco sia a livello di statline principalmente perché non lo so mi sembra che faccia poco per costare 5 mana in un archetipo in una regione che probabilmente avrà carte in quantità da giocare e quindi non vorrà spendere 5 mana per calare la libreria porta il palosa planta 2 5 mana planta 2 misterius portal pesca una carta questa carta è sembra veramente atroce secondo me è meno atroce di quello che sembra plantare 2 portal nelle top 4 carte dopodiché pescare 1 soprattutto se hai già magari un portal plantato la probabilità che peschi un portal è abbastanza alta con portal palusa e in genere se vogliamo dire che pescare una carta costa 1 mano e mezzo più o meno stai spendendo 3 mano e mezzo per plantare 2 portal comunque non vale la pena ma penso sia molto più molto meno atroce di quello che sembra 2 stelle forse sono generose 2 stelle per portal palusa però ci voglio credere non la giocherai come carta ma non dovrebbe essere terribile come champion spell di nor realm caretaker ogni round è la prima volta che hai pescato trap o boon da tutti gli alleati più 1 più 1 impact questo round realm caretaker sembra abbastanza forte 3 stelle forse anche 4 il costo alto e le statistiche basse lo dragano un po' down ma questo è esattamente il tipo di carta che vuole un mazzo che spamma unit l'unico vero problema che vedo è che normalmente forse 3 stelle sono tante diciamo facciamo così se no do a tutto 2 stelle portal palusa 1 stella ma meno atroce di quello che sembra realm caretaker 2 stelle ma forse si affaccia sulle 3 il problema è che tu spendi 6 mana cali il caretaker calato il caretaker il turno dopo probabilmente pescherai un altro portale no c'è c'è yordle captain che che fa ci sono tante carte che fanno questo tipo di lavoro meglio la stessa citria fa questo tipo di lavoro meglio però non è da buttare realm caretaker secondo me 2 stelle eclectic collection allora per ogni alleato pianti un mysterious portal e 3 chime nelle top 10 carte e una flash bomb e 3 poisonus e 3 funghi in carte random del mazzo avversario una stella ma vedo possibilità in questa carta vedo possibilità di mazzi che giocano super late super value questa carta da tanto per essere sette mana cioè è sette mana fai niente però quel fai niente è strano cioè ci possono essere combo particolari in cui la raddoppi eclectic collection o la giochi per mana scontato e di botto l'avversario potrebbe trovarsi cioè potrebbe trovarsi entrambi mazzi pieni di trap e di boon ma a parte questi casi super mega extra random no eclectic collection non ce la vedo non abbiamo parlato come abbiamo detto prima né di né di wandering shepherd né di shersis non voglio anticipare molto ma wandering shepherd è una carta abbastanza forte in genere bundle per essere la regione più scarsa del gioco ha ricevuto veramente poco ora come ora non so se questa espansione basterà a non renderla più la regione più scarsa del gioco sinceramente non credo molto molto deluso da bundle e se l'intero archetipo norra quindi l'intero archetipo boon evoca unità random non dovesse funzionare praticamente tutta l'espansione per bundle è stata completamente inutile le mie carte decenti sono wandering shepherd andiamo alla seconda regione che ha ricevuto più roba in questa espansione che è Ionia e se mi conoscete sapete benissimo che appena finirò di registrare questo video crafterò tre masterie e inizierò a testare qualcosa masterie 3 mana 2 3 quick attack round start riduci il costo di una spell in auto a mano di 1 per questo round e flow dai grant a tutti i masterie everywhere più 2 più 0 flow è se il turno prima sono state giocate due spell fondamentalmente la condizione di attivazione per eye of the dragon quindi 3 mana 2 3 quick attack lo giochi inizio del turno dopo quindi inizio del turno 4 una spell sarà scontata di 1 quindi è come se avesse tra virgolette a tune ogni turno e se hai attivato due spell quindi flow grant tutti i masterie ovunque più 2 più 0 se attivi anche questo effetto anche solo una volta stai guardando da un 3 mana 4 3 quick attack ogni masterie sarà un 3 mana 4 3 quick attack che è tanta roba se puoi giocare in masterie e proccare immediatamente il flow a turno 3 a turno 4 hai già un'unità fenomenale che ti stai scontando le carte in mano quindi sia un engine sia una carta che mette pressure sull'avversario masterie livella dopo aver fatto 12 danni quindi livella praticamente come Gwen è difficile il processo di livellare questa volta non farò l'errore di sottovalutare masterie base masterie livellato è un piccolo upgrade su masterie è molto simile a come funziona Gwen in realtà ha lo stesso identico effetto di masterie con il più 1 più 1 di rito e attack colpisco immediatamente il nemico più debole per come è freesata sono abbastanza sicuro 99% che tu dichiari l'attacco premi ok masterie colpisce il nemico più debole quindi il nemico più debole non potrà essere un blocker per la battaglia in genere il level up aggiunge forza ma giocare masterie livellato non è il motivo per cui giochi masterie lo giochi per l'effetto e per le base stat la keyword overall 4 stelle la carta è forte e a differenza di tante altre cose che vedremo in questa espansione di quasi tutto quello che vedremo in questa espansione ma serie ha già molto supporto eye of the dragon deep meditation lees in ionia stessa è una regione piena di carte a basso costo di spell a basso costo di spell che vogliono essere spammate questo tipo di carte le troviamo anche in altre regioni le troviamo in bilgewater le troviamo in noxus con riven eccetera eccetera masterie potrà essere tanto un supporto per l'isyn quanto una carta da giocare magari con riven per buildare una sorta di tempo di tempo ionia deck cosa che è assolutamente possibile masterie di per sé non è una win condition detto questo se attivi il flow un paio di volte e poi gli schiaffi dell'overwhelm ecco con due flow attivati già stiamo guardando a un 7 e 4 mettigli la mettigli la lama overwhelm e mettigli un più 2 attacco da una delle due regioni e masterie sta facendo una bella fetta di danno non è una win con ma decisamente mette molta pressure 4 stelle pulite momentus choice è una carta cultist quindi ne parleremo più avanti è una carta molto valida vastai undisciple un mana 1-1 elusive nexus strike con la mia trasforma min shimon wind shimon wind 2 mana burst evo chi va stai undiscipline peschi 1 praticamente simile a demorned solo che invece di essere cioè è un 1 mana elusive invece di essere 2-1-1-1 che attacca ti torna in mano solo che invece di tornarti in mano come se stesso e lo rigiochi per 1 mana lo rigiochi come 2 mana burst speed spell che rigioca se stesso e peschi 1 praticamente è più costoso di demorned ma lo vedo migliore in ogni caso l'unica differenza è che ovviamente ha 1 di attacco in meno per bilanciare 3 stelle forse anche sulle 4 demorned è una buona carta soprattutto in recall e vastai undiscipline vastai undisciple la vedo valida in quel tipo di mazzo ha un approccio un po' più lento di demorned questo è poco ma sicuro ma ci aggiunge del draw power che è sicuramente molto utile cioè vastai undisciple se non viene rimosso fondamentalmente può essere un peschino costante a costo di un po' di mana e aiuterà sicuramente molto anche a proccare flow in vari turni e ci sono varie carte in questa espansione che vogliono proccare più di un flow quindi ottima ottima carta passiamo alla prossima 3 stelle gliele diamo pulite pulite wujiu style 1 mana dai 1 unità più 2 questo turno crea una meditate in mano meditate 2 mana più 2 a un alleato questo round più 2 di salute hanno un alleato questo round 4 stelle ci vedo molto sonic wave solo che c'è un po' di differenze sonic wave ti fa castare una spella burst a 2 mana per prima dopodiché ti da l'1 mana più 2 di attacco qui hai l'1 mana più 2 di attacco e poi puoi decidere se castare o no meditate questo se vuoi l'attack buff è molto più pratico di sonic wave inoltre meditate ti da la possibilità anche di buffare fondamentalmente hai 3 mana più 2 più 2 però splettato su 2 carte ti fa proccare flow facilmente puoi decidere di usare meditate come puoi decidere di non usarla puoi decidere di usare il più 2 su un'unità e il più 2 su un'altra molto molto versatile 4 stelle ottima carta per ionia specificamente forse in un'altra regione le daremmo un po' di meno disciple of doran 2 mana 2 2 quando sono evocato crea una preparation in hand preparation è un mana focus riduce il costo di una spell in mano di 1 fondamentalmente è una sorta di moon silver è come se fosse un dusk petal stiamo guardando la lunari la tizia lunari che ti crea un dusk petal che può essere usato solo sulle spell 4 stelle forse tendenti anche alle 5 è esattamente il tipo di carta che ionia vuole per moltiplici attivazioni pensate a quanto sarà più facile attivare carte come deep meditation eye of the dragon con roba come disciple of doran quanto sarà più veloce livellare l'isin quanto sarà facile attivare tutte le carte flow dell'espansione inoltre può essere usato ovviamente per fare varie cose non può essere usato esattamente per scontare carte perché oddio riduce il costo di una spell in mano di uno quindi tecnicamente puoi usare preparation un turno in cui bruceresti del mana e il turno dopo puoi fare entrare cose che non ci entrerebbero normalmente ad esempio potresti fare entrare turno 5 l'isin supercharger però è un uso un po' più di nicchia in genere disciple of doran è semplicemente un ottimo modo per croccare flow entranzing lure ne parleremo più avanti perché è una weapon master stesso per ionia nuke master june de prodigi la prima volta che sono equipaggiato da mi barriere life steal per un round due stelle potrebbe valere un po' di più le statistiche sono solide il problema è che generalmente life steal per un round non vale molto perché i mazzi contro cui vuoi life steal più di tutti sono anche i mazzi che hanno risposte a life steal quindi immagina di giocare june de prodigi contro pirate spendi del mana per equipaggiargli qualcosa attacchi tutto convinto oppure blocchi tutto convinto noxian fervor hai perso il life steal fuck capito penso che giocare qualcosa tipo la melanzana sia sempre più pratico di giocare june de prodigi ma non è una carta terribile soprattutto perché guadagnando barrier forse ci si possono fare cose carine con shen e roba simile stendo avanti mistfall 5 stelle e magari non perché è tanto forte magari la carta è scarsa ma adoro questo design è un tutor ed è un tutor secondo me pensato molto molto bene 3 mana landmark quando sono evocata pesca un equipment la prima volta che ogni round che un alleato è equipaggiato refilla uno spell mana e grant più uno più zero all'unità non all'equipment che c'è da dire se giochi un mazzo puoi giocare un mazzo se giochi un mazzo interamente intorno a un equipment un equipment che ti fa girare tutto il mazzo mistfall può essere un ottimo modo per tutorarlo oppure puoi giocare un mazzo con magari due equipment diversi quindi sei copie e quindi inizia a fare mistfall pescherà una delle due e build il mazzo in modo in cui entrambe quale peschi peschi è molto valida e il fatto che ogni volta ti refilla un mana praticamente significa che già se giochi due equipment la mistfall ti è costata un mana solo e hai guadagnato più due sulle unità e hai pescato l'equipment molto molto valida inoltre credo che funzioni sono abbastanza sicuro non è sicuro che funziona con improvise che funziona con auto equip quindi la potrai usare con archetipi tipo Jax la potrai usare con con roba tipo Kane tutte queste cose qui magari la carta è debole magari costa troppo c'è il sospetto che spendere tre mana per pescare una in un turno ti porti molto indietro di tempo assolutamente però è un design che mi piace veramente tanto e secondo me ci si può ci si potrà inventare cose con mistfall è un po' tipo quando è uscito a voltovilia soltanto che non costa cinque mana ecco insomma dopodiché Shadow Blade Fanatic un cultist ne parleremo più avanti con Kane e Soul Sword Soul Sword tre stelle decente non so esattamente in che mazzo la vorresti giocare quattro mana tre due flow costa due in meno quindi partendo dal presupposto che a quattro mana non la vuoi mai giocare la dovrai giocare flow quindi deve avere un mazzo che procca abbastanza consistentemente flow e abbiamo tanti modi di proccarlo ormai però comunque sono carte che non sono esattamente ottime se non stanno proccando flow roba tipo Sonic Wave roba tipo Wuju Style se non ha tanti flow da proccare non è ottimale e quindi è un po' restrittiva Soul Sword nei mazzi in cui vuole andare tre stelle forse anche due forse anche due anche perché due mana più tre più due senza keyword senza effetti senza niente a slow speed non è esattamente il massimo diciamo due stelle più realistico due stelle però il fatto che la puoi cercare di Mistfall già aggiunge qualcosina già inizia ad aggiungere qualcosa bene passiamo alla prossima espansione è la prossima espansione cacchio dico alla prossima regione già è un'ora che parlo iniziate a iniziamo a tollerare qualche strafalcione Freljord Freljord abbiamo Orn il campione della nuova espansione e su Orn sono un po' in dubbio su quante stelle gli voglio dare penso che gli darò quattro stelle settimana 4-4 tough play equipami con una copia esatta dell'equipment più forte che è su un alleato no di una copia esatta praticamente targhetti un alleato equipi Orn con una copia esatta dell'equipment che ha quell'alleato oppure se non hai nessun alleato equipaggiato con l'equipment più forte con più power con più attacco che hai in mano attack forgiami due volte forge è una nuova keyword che esiste in questa espansione una keyword relativa principalmente a Orn e Freljord quando forgi un'unità granti più uno più uno a un alleato all'alleato se quell'alleato dai più uno più uno all'equipment e come abbiamo detto se l'alleato viene rimosso dal terreno o da una cosa qualunque l'equipment torna in mano e torna in mano buffato quindi giochi Orn diciamo che è un alleato con un equipment più due più due giochi Orn gli copi l'equipment Orn mi passa quattro mana sei a sette mana sei sei tough attacchi buffi quell'equipment due volte quindi Orn è già un sette mana 8-8 tough che sta attaccando il level up di Orn un alleato ha colpito per dieci più danni quindi se l'alleato non ha colpito prima di Orn Orn basta un equipment quattro mana cali Orn Orn entra 8-8 attacca 10-10 colpisce flippa Orn flippato più uno più uno esattamente lo stesso effetto di prima solo che quando attacca si forgia due volte dopodiché evoca il caprone con le statistiche di Orn il caprone è un quattro mana 1-1 Ephemeral Overwhelm quindi Orn arriverà ad attaccare con un attacco esagerato 12-13-14 di attacco facilmente ed evocherà caprone con l'attacco di Orn e la salute di Orn e Overwhelm ora questo può funzionare con Atrocity questo può funzionare con qualunque modo per dargli Overwhelm e può funzionare anche per conto suo è un archetipo bello lento stabile ci sono modi per far avere Overwhelm a Orn anche fuori dai classici lo vedremo con Improvise ovvero la carta è forte è un po' lenta il 7 mana in Freljord e c'è un po' il problema di Freljord che dice le carte devono essere un po' costose perché se fossero super mana efficient e rampano poi arrivano delle carte super mana efficient un turno prima del dovuto e succede un casino detto questo Orn è veramente gross cioè nell'arsenale di endgame powerplay che Freljord ha Orn è bello forte ha sinergia con tutto il vario archetipo equip se vuoi puoi anche giocarlo senza archetipo equip è semplicemente giocare 3 Orn e 3 Bon Club in un mazzo control aspetti di pescarla insieme giochi Orn copi il Bon Club attacchi Orn diventa 10 flip al prossimo attacco è un 13-13 col caprone cioè 13-13 pure lui capito ovvero è una carta molto forte vedremo se se ruberà il posto per esempio a Tryndamere in mazzi vari vedremo se verrà giocato in Field Rush che ti fa entrare Orn Orn praticamente 10-10 pronto a flippare e vedremo se verrà giocata e sicuramente ci saranno dei mazzi Orn a base Forge che verranno giocati con le sue sinergie caccia una carta Weapon Master la saltiamo Weapon Smith Apprentice 5 stelle la prima volta che equippi un alleato forgialo ora ci sono due modi di interpretarla questa carta o è e io la sto interpretando come ogni alleato la prima volta che lo equippi forgialo in questo caso sarebbe assolutamente broken siete sul terreno giochi un alleato lo equippi lo forgi quindi più uno più uno poi giochi un altro alleato lo equippi più uno più uno un'altra volta così sarebbe fuori di testa se invece è semplicemente la prima volta che lei vede un alleato equippato lo forgi 4 stelle comunque la carta è forte 1-1 vuol dire che può morire da rimozioni ad aria può morire da starnuti tipo carte rosse o Wither in Wail a parte quello è difficile rimuovere una carta del genere per tempo quindi si è spaccabile in teoria in pratica no treli favorite artisan anche qui forse un po' esagero però 5 stelle gli è ed amo favorite artisan mi piace veramente tanto come carta 2 mana 1-4 hanno capito che fraviord è scarsa quindi gli restano dalle carte buone 2 mana 1-4 quando sono evocato crea una time and dedication in hand time and dedication e focus non è neanche fleeting la puoi tenere quanto tempo vuoi forgi un alleato quindi quello che puoi fare la mossa base sarà passo turno 1 turno 2 favorite artisan time and dedication è calato un 2 mana 2-5 che non è male è una minaccia incredibile a turno 2 oppure cali 2 mana 1-4 ti tieni la time and dedication in mano e poi la giocherai più avanti per forgiare qualcosa il che ha più senso cioè è la giocata più sensata però la giocata baseline anche se giochi un mazzo senza senza forge senza equip senza niente lo puoi splashare come costo 2 generico in un mazzo e sai che sempre come minimo se vuoi c'hai un 2 mana 3 mana tra virgolette però in realtà sono 2 2-5 a disposizione carta super super forte forse anche 5 stelle se le meriterebbe adept weapon smith 3 mana 3-3 play forge an ally 4 stelle pure lui sto dando 4 stelle a destra e a manca però cercatemi di capire 3 mana 3-3 è un ottimo statline forge significa dare più 1-1 a un alleato quindi di base se hai un altro alleato stai giocando 3 mana 4-4 di stat se quell'altro alleato ha un equip ovviamente preferisci sempre forgiare su un equip invece che forgiare su un alleato però il fatto che puoi forgiare su un alleato ed è perfettamente stat efficient rende questa carta molto forte molto versatile un buon early game solido per freljord è una cosa necessaria horn's forge quando sono evocato oppure round start crea una fleeting time and dedication in mano quindi con la forgia di horn non potrai staccare 5-6 time and dedication in mano e poi calarle tutte sull'unità o calare 5 spell in un turno non potrai fare questo tipo di zozzerie detto questo la forgia di horn 3 stelle sicuro gliele diamo i mazzi che giocheranno molto intorno a equip quindi roba tipo improvise jacks roba così horn's forge sarà una carta molto solida se il tuo mazzo non gioca molto intorno a forge quindi non gioca molto intorno a tanti equip magari che valgono poco roba di weapon master non credo che valga la pena giocare a horn's forge combat cook ne parliamo più avanti perché è un weapon master bello breath la champion spell di horn forge è un alleato e fai un danno a tutte le unità ripetilo questa è una carta non so se dire che è meglio o peggio di avalanche ma è una sorta di side grade avalanche praticamente fai più uno più uno a un alleato dopodiché un danno a tutte le unità dopodiché lo fai di nuovo quindi alla fine dei conti hai fatto più due più due a un alleato e due danni a tutte le unità il che vuol dire che un'unità è praticamente ne esce fuori con più due e hai fatto due danni a tutti gli altri per un mana in più di avalanche quindi per un mana in più di avalanche hai reso un'unità immune ad avalanche e l'hai dato più due di attacco è sicuramente una versione più aggressiva più tempo oriented di avalanche non la giocherai al posto di avalanche nei control ma se vuoi dell'area control in un mazzo un po' più mid range bello breath funziona molto bene inoltre c'ha doppio forge detto questo tre stelle perché non so se è un mazzo che vuole andare con tante unità sul terreno e roba così vorrà giocare bello sbreath è una carta un po' confusa che non è c'è di meglio in un control avalanche e se la vuoi giocare in un mazzo pieno di unità pieno di forge pieno di weapon master non vedo perché vorresti spazzarti via il terreno bone club una stella l'unica utilità la prima carta veramente terribile di questa espansione per freyler l'unica utilità che vedo in bone club letteralmente è giocarla insieme a horn in un control e dire vabbè aspetto di pescarla insieme calo horn gli metto bone club addosso attacco 10 e lo flippo è l'unica utilità che vedo il punto è che in freyler ci sono carte che potenziano potenzione equipment e quindi tu vorresti equipment che costino poco abbiano poche stat magari abbiano delle buone keyword questo è esattamente il contrario di tutto quello che ho detto finora è l'equipment che costa di più nell'espansione mi sembra c'ha c'ha un già buone stat il che vuol dire che forge ha sempre meno value più sono le stat meno hanno value altre stat e non ha keyword fosse usato 5 mana più uno più uno overwhelm spell shield per dire sarebbe solo fortissimo così non ha senso gift of the earth blood 5 mana burst ti curi il nexus di 4 e granti a tutti gli alleati nel tuo mazzo tutti gli alleati e gli equipment del tuo mazzo più uno più uno ne peschi uno vorrei tanto darle due stelle diciamo che gliene do uno una stella però c'è del c'è del meme potential il punto è che a differenza di di avarosa nerth guard per esempio è una spell a 5 mana il che vuol dire che la puoi calare anche a turno 3 puoi fare turno 1 cale un costo 1 per tenere un po' il board turno 2 passi turno 3 gift of the earth blood hai pescato una carta e ora tutto il tuo mazzo è baffato i problemi sono che prima cosa hai speso 5 mana per fare nulla praticamente per baffarti il mazzo almeno avarosa nerth guard ti cala un 5-5 sul terreno fosse stato anche solo un'unità 1-1 con questo effetto sarebbe stato molto meglio invece purtroppo no seconda cosa e questa è la cosa più grave se vai a vedere non ci sono molte carte equip nell'espansione ci sono molti weapon master che generano equipment e roba del genere molti modi per generarli gli equipment ma non molti equipment fisici tra virgolette e questo non baffa gli equipment e gli alleati ovunque li baffa nel mazzo cioè addirittura non li baffa manco in mano quindi quelli che è già pescato sono un po' meme inoltre non puoi neanche buildare un mazzo intorno a cioè come potresti farlo con con il landmark di Ionia dici build un mazzo intorno a pescare un equipment e poi gioco questo per pescarlo perché questo ti può pescare un equipment o un'unità overall una stella meme potential sì forse qualcosa di crazy in futuro sì però Earthbloodmander 5 mana play forjan ally e lo curi e curi il tuo nexus di 3 2 stelle forse 3 in un mazzo magari lento che rampicchia un pochino forse 3 stelle ci puoi arrivare il problema è che stai spendendo 5 mana per curare il tuo nexus di 3 che ok è valido curare un'unità di 3 che ok e forgiare un'unità praticamente stai dando più 1 più 4 a un'unità tra virgolette e stai curando il nexus di 3 però è un po' lento per un effetto forge è un po' lento per curarsi il nexus cioè da un'unità 5 mana ti aspetteresti di più 2 stelle non è ingiocabile ma decisamente non è top tier per finire rot colossus 8 mana 8 8 overwhelm la prima volta che sono equipato crea una copia di me in mano grantagli le statistiche dell'equip non le keyword dell'equip questo è importante sono un po' in forza 3 stelle gliele potrei dare credo che possa esistere non adesso ma magari in futuro un universo in cui giochi un mazzo ramp e invece di giocare il tuo classico control rampi un po' e poi inizi a giocare tipo rot colossus gli butti un'equip che costa poco te ne generi un altro in mano il turno dopo un altro colossus il turno dopo un altro colossus potrebbe essere una cosa carina soprattutto se magari quell'equip che costa poco l'hai generato con i weapon master quindi uno di quelli che costa 2 l'hai forgiato già una volta per dire quindi rot colossus gli metti una keyword e gli metti più 1 più 3 per dire crei un altro rot colossus che è 8 mana 9, 11 locali un altro equip un'altra keyword c'è del potenziale però dovresti essere un meta dovresti essere un mazzo lento ma non control che gioca una sorta di mid range super lento è possibile ma non ce lo vedo adesso anche perché non esistono ripeto tanti equipment maindecabili forti quindi dovresti basarti sugli equipamenti degli weapon master non male non male va bene abbiamo visto le 3 regioni principali dell'espansione ora andiamo a vedere i 2 Runeterran champion Jax e Kayn parleremo di Jax che è un pochino più legato a quello che abbiamo visto finora dopodiché parleremo di tutte le carte weapon master poi parleremo di Kayn poi di tutte le carte cultist poi di tutte le altre carte di tutte le altre regioni e poi speriamo che non arriviamo a 2 ore di vita Jax 2 mana 3 2 allora intanto discutiamo delle origin ovviamente origin di Jax Grandmaster Atarm è praticamente l'origin di Evelyn puoi mettere tutte le carte weapon master nel tuo mazzo in deck building basta non c'è nessun effetto abbiamo potuto vedere finora tre tipi di campioni origin con questi due siamo arrivati a 5 abbiamo avuto tre tipi di campioni origin campioni origin che li giochi principalmente per l'effetto della loro origin Bard prima del nerf campioni origin che hanno la cui origin ha un effetto e che è una parte limitata del loro power budget Kayn e Jin che hanno un effetto sull'origin non è particolarmente forte però ce l'hanno è una cosa in più e quindi la carta è leggermente deboluccia e poi carte belle forti belle solide come Jax e Evelyn che non hanno nessun effetto nell'origin sono quelle che mi piacciono di meno delle tre perché mi piace molto il concetto che l'origin abbia un effetto anche una cosa piccola anche una cosa stupida però vabbè sorso d'acqua stavo morendo quindi puoi giocare tutte le carte weapon master nel mazzo e lo vedremo a breve ci sono molte carte weapon master tra l'altro molte carte weapon master che vanno a rompere una delle convenzioni di lore finora ovvero che nessuna regione tranne bandola da carte multiregione ogni carta weapon master è multiregione tranne Jax vabbè Jax 2 mana 3 2 origin grandmaster terms auto equip dell'Etovicatia auto equip è una nuova keyword che automaticamente equipa l'item automaticamente equipa un equipment all'unità dalla mano se è presente in mano lo crea se non è presente in mano quando viene evocato quindi tu evochi Jax immediatamente equippi dell'Etovicatia dell'Etovicatia 0 mana 0 quick attack e equipment quindi di base Jax 2 mana 3 2 quick attack Lucian ok base Lucian sappiamo che è abbastanza valido ma non è fortissimo se Jax ha livellato l'Etovicatia ha anche overwhelm quindi Jax livellato sarà 2 mana 4 3 equip cioè con l'equip attaccato con quick attack e overwhelm è l'effetto che adesso vediamo c'è da dire che è meglio di Lucian perché la l'Etovicatia è forgiabile è molto molto facile da forgiare è molto molto sinergica con il forge giochi Jax 2 mana 3 2 quick attack quick attack lo inizia a forgiare e ci sono dei modi per per forgiarlo anche fuori credo da Freljord c'è qualcosa che lo forgia sicuramente Counterstrike la sua Champions lo forgia lo giochi lo forgi una volta lo forgi 2 poi magari Jax muore il prossimo Jax che cala che cali ci avrà Light Vicatia già abbaffato Jax alleati equipaggiati hanno colpito per 15 o più danni non è molto difficile da fare questo level up non so quanto in fretta arrivi perché questo tipo di effetto è quella roba del tipo se lo livelli consistentemente a turno 4 è molto forte se lo livelli se difficilmente lo livelli prima del turno 6 è molto meno forte capito? eh però in genere non mi sembra troppo difficile come level up da raggiungere per i Weapon Master che sono tutte carte con Improvise quando livella Jax 2 mana 4 3 overwhelm quick attack quindi auto equip Light Vicatia attack dai a me più uno più uno per ogni alleato equipaggiato per questo round quindi hai 3 alleati equipaggiati e hai forgiato Jax una volta perfetto 2 mana 4 3 1 forge 5 4 2 alleati equipaggiati 2 mana 7 6 quick attack overwhelm me con Ionibus per finire discutiamo della champion spell che come con tutte le carte di tutti i champion di Runterra non la puoi mendicare e meno male perché le carte di solito le champion spell sono broken sia questa sia quella di Evelyn counter strike 3 mana burst dai a Jax barriera questo round e lo forgi mischia un Jax nel mazzo questa è una carta molto forte 3 mana barriera praticamente è una prismatic barrier che lo forgia pure e ripeto forge meglio di più uno più uno base perché stai forgiando l'arma in genere in genere a Jax darei 4 stelle sui campioni con Origin dovresti anche valutare quante carte puoi effettivamente aggiungere grazie alla loro origine e quanto sono valide quelle carte e cosa fa l'origine l'origine in questa cosa non fa niente le carte weapon master mi sembra che sono 10 in tutta l'espansione che sono tante e sono decenti funzionano bene con il suo archetipo ce lo vedo con Orn ovviamente è la cosa più ovvia ma ci vedo la possibilità di giocare Jax anche fuori da Orn in mazzi ai tempo con un paio di 2-3 weapon master carte weapon master ai tempo e giocare semplicemente Jax locali 2 mana 3-2 quick attack mette molta pressure e quando flippa magari torno 4 torno 5 cioè 2 mana 4-3 overwhelm quick attack overwhelm magari attacca si buffa di più uno più è molta pressure non è Lucian perché è più facile da livellare o comunque livellerà passivamente non deve stare sul terreno non devi proteggerlo come Lucian ovviamente è meno di impatto quando livella ma è molto più facile da livellare overall 4 stelle forse un po' meno di 4 stelle forse 3 3 stelle 3 stelle gliele devo dare anche perché non posso dar 4 stelle a tutti a Nora avevo dato 3 stelle mi sembra forse Nora era anche più sulle 2 stelle in genere ai campioni evito di dare una stella quindi ok lo discutiamo dopo in genere Jax secondo me è una buona carta bisogna vedere cosa succede ora Weapon Master le carte Weapon Master sono 10 tra le Jax sono tutte basate sull'idea di Improvise parleremo prima delle unità e poi delle spell sono tutte carte Double Region e hanno questa nuova keyword Improvise Improvise quando evochi quando giochi in unità dalla mano avrai una scelta di 2 tra 10 totali equipment che puoi avere non so se qui c'è una lista Improvise Weapon esatto queste sono le armi che puoi avere dell'Improvise quando evochi dalla mano quando giochi dalla mano un'unità che è Improvise ti verrà data una scelta di 2 a caso tra queste 8 armi il punto è che se hai già equipaggiato la padella la pentola e il cacciavite al prossimo Improvise queste 3 non le potrai più vedere quindi è una meccanica molto interessante per i motivi che stiamo per discutere adesso sono tutte costi 2 e sono più o meno tutte relativamente bilanciate l'una rispetto all'altra alcune avranno un effetto più forte alcune avranno un effetto magari più statistiche alcuni sono più forti early alcuni sono più forti late combat drill più 2 più 1 attack refill uno spell mana molto forte early e decentemente forte anche più avanti fishwack più 2 più 0 overwhelm molto più forte late rispetto che early padella padella più 2 tough ottima early game veramente fantastica pentolone più 1 più 2 impact sinceramente hanno dato delle ottime statline perché impact fa schifo solida early perché sono buone statline sandworn amulet più 2 più 1 e fearsome buona early game shepherd's authority più 3 più 2 non posso bloccare molto solida per mettere pressione cacciavite più 2 quick attack solida early e rastrello strano rastrello più 1 scout la logica delle delle carte improvised è abbastanza banale secondo me è abbastanza interessante ma anche chiara se stai improvvisando i primi turni ti serviranno statistiche e effetti keyword solida early quindi combat thrill padella pentola cacciavite anche shepherd's authority e vuoi giocare più carte improvised vuoi continuare a giocarle in modo che nella pool queste equip che sono forti early e diventano sempre peggio più avanti la partita li levi quindi quando magari a turno 7 improvvisi nella pool c'è soltanto pesce rastrello e combat thrill ti sei assicurato di trovare una che sarà molto forte molto di impatto per il late game c'è anche un'altra possibilità se le giochi con forge potresti prendere per esempio rastrello che è la più forte quella con l'effetto by far migliore early game improvvisi a turno 2 un'unità con rastrello forge 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 morirà in qualche modo quell'unità anche perché stiamo parlando diciamo che lo forgi due volte stiamo parlando di un'unità più 3 più 2 scout prima o poi lo dovrà bloccare insomma l'unità timore e c'hai due mana più 3 più 2 scout pronta a essere equipaggiato a robe quindi in base al mazzo in cui giochi ci sono due modi di giocare le carte improvise se le giochi in un midrange generico il primo modo se le giochi in un mazzo forge il secondo modo è sicuramente più efficiente discusso di queste ripeto sono 8 quindi non è troppo difficile cioè più avanti la partita meno è random quello che tiri fuori dagli improvise early game weapon master early game ci sono molte molte delle armi che puoi tirare fuori dall'improvise sono solide quindi è difficile che ti trovi una scelta tra rastrello e pesce sono penso le due peggiori early game anche lì cioè non fanno schifo capito quindi fear tripper of the sense un mana 1-1 eh tra l'altro questo succede se giochi dalla mano un'unità improvise se evochi un'unità improvise se trigger improvise evocando prenderà un equip random non non ci sono molti casi in cui evocherai un equip random però vale la pena dire che se tu stai evocando non avrai possibilità di scelta fear tripper of the sand un mana 1-1 quando sono evocato improvviso non può bloccare e efemeral fear 3 stelle il valore principale di questa carta è sinceramente tirare fuori un equip bello solido per altre unità lo giochi ci attacchi ti muore e poi puoi mettere quell'equip su qualcosa che preferisci lo puoi fare con il pesce lo puoi fare con il rastrello lo puoi fare con attacchi refill spell mana solido ma non so se verrà giocato in tutti i mazzi in tutti i mazzi webmaster forse 4 stelle gliele potremmo buttare ah ionia nukemaster 2 mana 1-1 improvviso quando sono evocata 3 stelle le statistiche sono basse ma ripeto gli dai la padella 2 mana 3-1 tough non è male gli dai la pentola 2 mana 2-3 non è malissimo inoltre tutte queste cose ovviamente forse la ionia nukemaster è un po' la più debole ma c'è anche da c'è anche da considerare il fatto che appunto quando praticamente hanno quasi come se avessero tutte last breath creati l'equipo in mano che hai scelto quindi c'è da considerare anche questo peltovan castaway 3 mana 2-1 attun quindi è quasi come se costasse 2 mana quando sono evocato improvviso anche qui 3 stelle non so ben costano più o meno tutti uguali finora fanno più o meno tutti la stessa cosa quando sono evocato improvviso lui è 1 mana 1-1 non può bloccare efimeral lei è 2 mana 1-1 lui è 3 mana 2-1 ma c'ha attun quindi 2 mana e mezzo in genere modi molto economici per improvvisare e generalmente su queste carte inizierai a o le lascerai morire e ti recupererai l'equipo in mano o inizierai a forgiarle soprattutto queste due ovviamente non vai a forgiare firet wandering shepherd il primo incredibilmente interessante 4 stelle 3 mana 2-2 picca un alleato e l'alleato improvvisa quindi qui ovviamente si apre un universo non solo il fatto che lo puoi se non c'è un alleato ma improvvisare improvvisa lui vabbè sti cazzo non solo il fatto che puoi iniziare improvvisarci unità varie ricordiamo per esempio non puoi improvvisare Jax perché Jax di base ci avrà sempre la lanterna però oltre al fatto di poter improvvisare altre unità e altre cose e bla 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 ovviamente non tutte le unità che giochi saranno improvvisa lui è una carta che può essere giocata fuori da Maxi Weapon Master tranquillamente mentre le altre si puoi magari il Piltovan Castaway o magari lui in un Mazzonasus e basta io qui inizio a vedere Fated Support io qui inizio a vedere supporto in genere per Maxi Ionia immagina giocare Zoe e dopo improvvisare Zoe c'è molto potenziale in Wandering Shepard Combat Cook discorso simile molto potenziale per motivo diverso 4 mana 2-2 quando sono evocato improvviso e poi mi forgio in questi casi dobbiamo anche andare a discutere delle regioni abbastanza importanti Piltovan Castaway Ionia Nook Master un po' sti cazzi Firet River of the Sand a parte i mazzi che vogliono spaccarsi le unit non c'è particolari sinergie Wandering Shepard abbiamo detto ci sono cose da fare stessa cosa Combat Cook Demacia Freljord ottime regioni per un'unità del genere quando locali improvvisi quindi in base all'arma che tiri fuori può essere più uno più uno generalmente saranno tra le due le tre statistiche e dopo di che lo forgi quindi ci avrai un 4 mana 4 4 slash 4 5 con una keyword flessibile in base a quello che tiri fuori da improvviso e quello che ti serve e quando morirà recupererai quell'arma quella quella padella o quel pesce forgiato 4 stelle molto solido molto molto solido parliamo delle spell meno impressionanti secondo me Blades of the Fallen Dai un alleato Last Breath evoca Unicati and Mirage con il mio equipaggiamento questo round praticamente un mana Dai un alleato Last Breath evoca un 3-2 3 stelle non male soprattutto utilizzabile ripeto Mansi Nasus questo tipo di roba qui non so effettivamente quanto uso potrà trovare però come carta è molto interessante in genere dare un'unità un mana Last Breath cala un cioè raga Icati and Mirage è uno di attacco in meno rispetto all'abomination che evochi dal dal Curset Keeper non è da sottovalutare sta roba puoi rendere un'unità un Mini Curset Keeper che si mantiene anche gli equipment se ha degli equipment 3 stelle pulite 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 catch Dai un alleato più uno più uno questo round oppure equippalo con un equipment in mano e costa 2 in meno questa gli diamo 2 stelle sinceramente per far funzionare questa carta o devi giocare un fottio di Weapon Master proprio tanti e quindi c'hai un sacco di equipment in mano altra parentesi ho dimenticato di dire che non puoi giocare lo stesso equipment più di una volta dalla mano se giochi un equipment dalla mano e poi quell'unità muore e recuperi l'equipamento in mano non potrai rigiocarlo questo l'hanno fatto per evitare loop infiniti e cose strane hanno messo già questa meccanica nel gioco così fermatevi prima ancora di iniziare catch credo che giri intorno questa meccanica resta il fatto che se non hai un mazzo pieno di equipment o se non hai un mazzo pieno di Weapon Master non ci sono molti equipment nel gioco ne è uscito in media uno a espansione quindi catch un mana più uno più uno non è male fosse stato forge o un alleato sarebbe stato molto meglio praticamente power creep di radiant strike ecco su questo siamo poco ma sicuro ma overall tre stelle stenta forse anche due stelle eh anche due stelle magari magari sto sottovalutando catch magari in un mazzo anche che non è un mazzo jack puoi includere tanti Weapon Master e farla funziona ma non credo proprio francamente non credo entranzi in lure tre stelle dai un alleato challenger questo round se hai equipato pesca una carta se riesci a farla consistentemente su un alleato equipato è due mana dai challenger alleato pesca uno inoltre stiamo parlando di ionia questa è una roba utile anche per attivare robe tipo robe tipo flow buona carta solida tre stelle gliele buttiamo shersis due stelle dai un alleato dai un alleato equipaggiato le statistiche e le keyword del suo equipamento e dopodiché equipano metti l'equipamento a un altro alleato praticamente se c'è un alleato con equipato più due più la pentola più uno più due impact dai all'alleato le statistiche del suo equipment quindi gli dai più uno più due impact e sposti la pentola su un'altra unità interessante per raddoppiare gli effetti di un di un equipment per un turno ma non vedo molti usi pratici per shersis magari sbaglio perché magari un mazzo che riesce a forgiare più di una volta un equipment anche se lo forgi una volta sola shersis può essere fondamentalmente un buff per tante stat però è abbastanza limitante sposte sono sicuro che da qualche parte esiste un modo molto forte per sfruttare il fatto che sposti un equipment ma non mi viene in mente la vedo un po' un po' limitata come carta due stelle non lo so forse 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 se le merita di più parts made hole una stella per giocarmi scarta 1 pesca 2 se hai scartato un equipment evoca unicati al mirage 2 mana 3 2 se hai scartato un equipment la carta è abbastanza solida allora diciamo che di base 4 mana allora ramage 2 mana scarta 1 pesca 2 ok stai spendendo 2 mana in più nella regione in cui ci sta ramage e si anche in bilge water ma stica capito nella regione in cui c'è ramage mi stai mettendo ramage a 2 mana in più che se scarto un equipment pesco i katia mirage se scarto un equipment pescare unicati a mirage non credo che mi valga i 2 mana che ho speso in più potrebbe valerli in alcune situazioni anche perché sarebbe un'evocazione a burst speed solo se ho scartato un equipment se no è meglio ramage anche ramage adesso è un po' underpowered di come carta quindi non lo so non credo non credo che parts made all sia mai giocabile se fosse stata la 3 mana sarebbe stata ok scarti un equipment è solida così anche nel caso migliore non credo sia mai giocabile una stella ok mamma mia sto morendo parliamo di kane avrei potuto cercare cultist diciamo una cosa saggia cerchiamo cultist kane altro campione runterran di questa espansione 5 mana origine the shadow reaper puoi giocare qualsiasi carta cultist nel tuo mazzo quando hai evocato 3 o più unità cultist evocato non giocato pesca un kane ora di per sé discutiamo velocemente dell'origin il kane è una carta a costo 5 che vuole essere giocata in curva a 5 generalmente quindi se esistessero abbastanza cultist abbastanza forte abbastanza early da garantire o comunque da rendere molto probabile che nei primi 4 turni di partita puoi giocare 3 cultist e quindi ti garantisci il kane a turno 5 questa origine sarebbe molto forte detto questo hai un costo 1 valido un costo 2 un costo 3 2 costi 4 non lo vedo facilissimo attiva cioè giocare il kane in curva perché l'hai pescato per via dei cultist è possibile però quello che vedo più plausibile pescare magari una seconda copia di kane in turno 6 turno 7 o magari se proprio non hai visto kane eventualmente lo peschi è una buona origine a livello diciamo dell'origine di jean però se ci fossero più cultist a basso costo e quindi fosse dici ok tu ti hai garantito kane a turno 5 un po' come hai garantito kaisa a turno 5 con 3 con 3 right of calling ecco lì questa sarebbe un'origine passerebbe da essere forte a essere broken questa origine in genere parliamo comunque di kane 5 mana 2 5 challenger origine the shadow reaper auto equip the dark side quando uccido un alleato curami di 2 the dark side dark inside the dark inside è una carta dark in tra parentesi 2 mana 0 0 equipment attack grant alla dark inside più 1 più 1 quindi kane che tra l'altro è un dark in non mi sembra ci sono sinergie particolari con la keyword dark in per ora con la razza dark in per ora 5 mana 2 5 challenger entra attacca un'unità guadagna più 1 la falce kane ammazzare un'unità si cura di 2 per livellare kane vuole aver colpito 2 volte simile a garen quindi non ha regen però ha quando uccido un alleato curami di 2 quindi finché vai per alleati piccoli si mantirà di 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 salute non ha l'attacco di garen però ha challenger quindi può andare a cercare combat in genere esattamente come i garen diciamo il garen pre rework il modo più pratico che vedo per livellarlo sarà giocarlo con roba tipo demacia che forzerà un sacco di strike e rally o anche per esempio shurima dove abbiamo carte come desert duel quindi dopo che ha colpito due volte qui arriva la cosa complicata cioè di base 5 mana challenger 2 5 ogni volta che attacca gli sale l'attacco ogni volta che uccide di sicura quando livella si reculla dice che è catarina no si reculla in mano 0 mana 3 6 capito catarina come si fa non dico che catarina è livellato dovrebbe costare 0 spaccherebbe il gioco però avete capito avete capito il meme che è in livellato 0 mana 3 6 quindi lo rigiochi gratis praticamente lo livelli giusto per fargli fare giusto per farti fare la scelta quando lo giochi trasformi lui e tutte le copie di kane in rust oppure in shadow assassin vero alla lore di kane quando a un certo punto arriva a livella se hai fatto la forma scegli una forma e ti terrai quella forma per tutto il game puoi scegliere tra rust o shadow assassin shadow assassin 5 mana 3 6 elusive challenger auto equip shadow sight shadow sight attack grant shadow sight più 2 più 0 quindi grant a kane più 2 più 0 se stai andando solo a shadow assassin soprattutto se l'hai scelto il challenger ci sta perché pareva brutto levarlo ma è inutile ed influente è un 5 mana 3 6 elusive che attacca e diventa 5 6 quindi il primo attacco sono 5 danni il secondo attacco sono 7 danni e già me lo vedo possibilmente in un mazzo de matcha che kane ha 5 attacchi gli forzi uno strike livella locale livellato shadow assassin attacchi 5 6 rally riattacchi 7 6 la forma shadow assassin è la forma più semplice più intuitiva e dopo di che abbiamo rust la forma più lenta più controllosa 5 mana 3 6 challenger overwhelm qui l'overwhelm ha molto senso auto equip corrupted sight la corrupted sight è praticamente la shadow sight però da più 1 più 1 invece di più di più 2 più 0 quando uccide un alleato si cura completamente lui e si cura il nexus di 2 praticamente la corrupted sight e la shadow sight sono versioni avanzate della darken sight shadow assassin è semplicemente un finisher è un elusive locale attacchi 5 6 attacchi 5 danni riattacchi 7 danni tanti danni tanti faccia tanto smork cane rust penso sarà la forma più solida delle due overall è fatto per challengeare unità l'attacco sale progressivamente quindi non fa e inoltre c'è over non c'è elusive quindi il danno che fa sarà di meno ma si cura il nexus cura completamente se stesso quindi è più adatto a un game plan più lungo a più lungo termine ma è più solido overall di shadow assassin ovviamente in base al match up in base al mazzo che tu stai giocando potrai preferire shadow assassin se ripeto magari giochi rally e vuoi una chiusura veloce oppure rust per un gioco più lento il punto è che se la chiusura veloce con shadow assassin sembra interessante in concetto lo è in pratica devi avere turno 5 game in curva calarlo flipparlo il che diciamo che richiede un attacco più un cataclisma una volta l'hai flippato lo devi ricalare aspettare magari il turno 7 attaccare il turno 7 e fare rally di nuovo il turno 7 un po' lento cioè è tanto danno è tantissimo attacco ma è un po' lentino in alcuni match up lo potrei sicuramente sfruttare sfruttare shadow assassin e chiuderci game tuttavia sembra una carta adatta a un gioco più lento e nel gioco più lento sicuramente rust è superiore bisognerà testare per capire in quali match up e in quali mazzi sia preferibile shadow o sia preferibile rust la champion spell di kane è shadow step 4 mana dai a kane quick attack per un round e challenge a un nemico crea un attacco gratis e challenge un nemico praticamente cataclisma che dà quick attack per tutto il turno quindi sia per quell'attacco sia per attacchi futuri e costa un mana in più la champion spell è ok però è cataclisma con un quick attack messo vicino per un mana in più non è certamente a livello della champion spell di evelyn overall kane 4 stelle versatile legge giocabile in vari mazzi una carta un po' più lenta di quelle che abbiamo avuto finora il che è una benedizione sinceramente locali a 5 a 5 farà poco ma una volta che rampa ci avrai orast che fornisce cura e dato che runterran può essere una base per creare un midrange lento un po' in tutte le regioni quasi potrebbe funzionare in un control oppure shadow assassin per una chiusura veloce in un paio di attacchi soprattutto in mazzi che vogliono che fanno rally sembra una carta solida 4 stelle no non posso dargliene di meno francamente forsegan bakkai un mana 2-1 occultist quindi può essere giocato con kane tutte queste sono carte che possono essere giocate con kane un mana 2-1 shurima play predict se hai predictato un darkin un equipment grantami più uno più uno questa è una delle poche carte che si energizza mi sa con i darkin darkin lo vedremo sono una nuova cosa crescita il punto è un mana 2-1 predict anche se non predicti un darkin o un equipment minchia è forte è quasi preferibile al treasure seeker sono sicuro che alcuni mazzi quando devono scegliere il loro costo 1 generico shurima alcuni sceglieranno treasure seeker alcuni sceglieranno forsegan bakkai e treasure seeker è molto forte poi se per sbaglio diciamo che giochi 3 darkin e 3 equipment nel mazzo e ne chiappi uno per puro caso ragazzi un mana 3-2 che ha predictato 5 stelle come faccio a dargliene di meno quasi 6 è veramente forte forsegan bakkai momentous choice un mana burst di ionia dai un alleato più 1-0 o più 0-1 questo round se hai equipato un alleato in questo game in qualunque modo in qualunque luogo in qualunque lago mi giochi una copia sullo stesso target quindi dai più 2 o dai più 2 di salute se hai equipato un qualsiasi alleato in questo game stai praticamente giocando Twin Disciplines per un mana l'attacco è lo stesso la salute è 1 in meno e francamente sti cazzi considerando che per un mana è meno 5 stelle se la giochi senza l'equip cioè anche se dovessi giocare tipo 3 equip nel mazzo potresti slottare momentous choice è debole se non la se non la raddoppi però non è non è comunque orripilante se dovessi giocare anche solo 3 equip o 6 equip proprio eh non solo Twin Disciplines è anche double cast cioè questa carta da sola ti procca flow se puoi giocarle in un mazzo con flow questa carta è fenomenale broken as fuck flow vicina alle 6 stelle Tempting Prospect e ripeto cioè l'unica cosa che mi impedisce di dire 6 stelle per ora è che non sono sicuro che i mazzi Ionia che vogliono giocare flow potranno usarla se fossi sicuro che potranno usarla sarebbe 6 stelle a mani basse inoltre ovviamente è forte con Cain grazie al puffero Tempting Prospect 2 mana di matcha burst picca follower o equipment dalle prime 4 carte del mazzo pesca o le piazza del resto del mazzo sinceramente non la vedo molto molto forte sta carta picca un follower o equipment dalle prime 4 carte del mazzo quindi non è manco predict non puoi prenderci Cain per esempio con sta carta e ricordo che le spell non funzionano per l'origine di Cain deve aver evocato unità Tempting Prospect 2 stelle forse ci sarà qualcosa che si potrà fare con questa roba un mazzo che vuole giocare interamente intorno a un equip magari però a sto punto il landmark di Ionia quello che qua sta 3 il mistfall mi sembra che si chiama o mist qualcosa è meglio di Tempting Prospect non credo non credo proprio The Darkin Bloodletter un mana Shurima è un equipamento da giocare di main più 1 più 0 Last Breath se il mio bearer non è cioè se quello a cui sono equipaggiato non è un Darkentral evoca un Darkentral quindi un mana più 1 più 0 Last Breath evoca un Darkentral ok Darkentral è un mana 1-1 can't block la prima volta che sono equipaggiato diventa un 3-3 quindi non può bloccare però è un'unità che puoi sacrificare quindi è un'unità in più da ammazzarti ed è anche un possibile 3-3 che picchia inoltre è un cultist quindi ti può aiutare a proccare più velocemente la passia di Kain puoi spendere 6 mana e invece di giocare l'equip ci sono molti equip che hanno questo gimmick puoi spendere 6 mana e invece di giocarla come equip la giochi come unità e questa è un'unità che puoi calare sul terreno c'hai Darkin Bloodletter in mano decidi ok spendo 6 mana e invece di tirare l'equip calo Xolani un po' tipo un po' tipo di cose un po' tipo gli attacci Xolani è 6 mana Darkin 7-7 Overwhelm per giocarmi Kill on Aleato quindi spendi 6 mana con la Darkin Bloodletter Kill on Aleato e Calyxolani la Spreath crea una Darkin Bloodletter in mano quindi quando muore si ricrea la Bloodletter 4 stelle tanta roba con Nasus tanta roba con tutto l'archetipo Slay non so quanto effettivamente sarà valido con Kain però c'è anche da dire che questo è uno dei pochi equip main deckabili che effettivamente sono forti almeno di quelli che ho visto per ora quindi valido Darkin Tral è ok quando lo evochi ripeto la puoi giocare più 1-0 su un'unità Last Breath muore in unità Caly il Darkin Tral un mana 1-1 devi trovare qualcosa da farci o gli equippi qualcosa e diventa 3-3 almeno è un po' pericoloso per l'avversario oppure lo sacrifichi con qualche tipo di effetto e c'è molta flessibilità in questa cassa non è Broken credo sia molto bilanciata forse forse un po' scarsina non lo so però forte o però molto forte no scarsina sicuramente non lo è molto versatile Keeper of the Box 2-2 cultists Shadow Isles una volta che ho equipaggiato un aliato questo game Grant e Lifesteal ora queste sono le carte che fanno un po' schifo Grant Lifesteal ha senso soltanto se gli inizi equipare roba con attacco e salute quindi lo rendi un po' più grosso questo è uno di quei cultists che se lo giochi lo giochi o per fare qualche combo strana in qualche mazzo molto molto sinergico oppure la giochi perché culti se vuoi pescare game overall 2 stelle Shadow Blade Fanatic 3 mana 3 2 quick attack un'ottima stat line una volta che hai equipaggiato un alleato in questo game crea uno Shadow Fiend in mano non dice che lo vuole vedere quindi penso che funzioni che ne so turno 2 caglio in unità che si improvvisa turno 3 cagli Shadow Blade Fanatic dato che hai improvvisato questo game ti crei subito lo Shadow Fiend in mano 4 stelle solido stat line 3 mana 3 2 quick attack ripeto è abbastanza impressive creare uno Shadow Fiend in mano Shadow Fiend spesso e volentieri viene considerato una carta orribile ma non è così male in realtà un mana 4 3 Ephemeral è un enorme stat line difensivamente è un ottimo deterrente per l'avversario che non vorrà attaccare se tu c'è uno Shadow Fiend e offensivamente soprattutto se per esempio hai fatto turno 2 calo in unità gli improvviso gli hai improvvisato il pesce turno 3 Shadow Blade Fanatic muore turno 4 magari cali Shadow Fiend gli equipi il pesce e c'hai un mana 3 mana in tutto spesi 6-3 Overwhelm Ephemeral sono da anni cioè ci puoi fare cose con lo Shadow Fiend soprattutto con gli equip a costo basso ma anche in genere come carta la puoi giocare quindi Shadow Blade Fanatic mi piace molto Furious Wilder 4 mana un alliato equipaggiato colpisce un nemico 3 stelle la versione scarsa eh forse oddio stavo dicendo la versione scarsa di della Bloodletter la 4 mana Noxus però quella carta non c'è quella carta è forte molto molto forte Furious Wilder quasi 4 stelle se le merita no diciamo 3 stelle comunque 3 stelle 4 mana per uno strike se l'alleato è equipato un po' sul costoso però è fast ed è cultist quindi la puoi giocare con Kayn questo vuol dire che potrai giocare Kayn anche in regioni che non hanno nessun tipo di rimozioni tipo Ionia tipo Targon e poi comunque metterci 3 Furious Wilder il fatto che sia cultist e può stare con Kayn da molta versatilità a questa carta Noxian Defector 4 mana 2-4 Quick Attack Attack Grow My Power a quello dell'alleato più forte equipato in questo round 2 stelle non credo che sia valida sta roba un 4 mana tanto di attacco Quick Attack però tanto di attacco soltanto se c'hai un altro alleato grosso equipato arriva un po' tardino non lo so non credo anche perché è cultist lo usi per pescare Kayn ma non sinergizza con Kayn che non ci avrà molto attacco il turno che lo cali quindi con cosa lo fai sinergizzare non lo so non mi piace per niente 2 stelle non gli voglio dare una stella non credo sia completamente inutile Ranger Knight Defector 4 mana 4-3 Tuff una volta che equipato un alleato in questo game di Migranti Scout questa è una carta difficile da valutare perché non so quanto possa essere forte in cultist decisamente la giocherai meglio di Noxian Defector per pescare Kayn ma non so quanto possa essere forte fuori da cultist questa è la cosa pericolosa 4 stelle cioè immaginate che tu puoi far funzionare un mazzo kaisa con un totale di 6 o 9 carte che creano equip e poi metti Ranger Knight Defector turno 4 calato Tuff Scout turno 5 cali kaisa e gliele copi alè proprio partito Ranger Knight Defector ha molte possibilità 4 mana 4 3 Tuff già una stat line molto solida e soprattutto se gli puoi baffare la salute e sei in demacia quindi in qualche modo gliela potrei baffare la salute cioè l'ha un po' di supporto e se poi prende pure scout diventa pericoloso 4 stelle gliele diamo Headless Resurrection anche perché Forsaken Bakai Shadow Blade Fanatic e Ranger Knight Defector che per ora sono i cultist forti che tu cali per Kane magari splashi un paio di Keeper of the Box giusto per aumentare un po' la possibilità che lo peschi quindi c'è anche da valutare quello Headless Resurrection una volta che hai equippato un alleato in questo game costo 2 in meno resuscita il campione più forte morto in questo game 3 stelle non credo di volergli ne dare 4 il fatto è questo allora prima di tutto a 5 mana e a 3 mana non c'è troppa differenza perché Revive un champion generalmente è un qualcosa che arriva abbastanza tardi nei game pensate Re Kingler oddio se pensi Re Kingler 5 mana Re Kingler che è champion spell non ci metti il body a fianco effettivamente forse 4 stelle gliele darei si si no 4 stelle le merito il punto è che restare un champion è una cosa che arriva spesso abbastanza late in una partita e generalmente una carta del genere è inutile finché non ti è morto un champion e se la giochi in un mazzo come per dire action kaiser l'ultimo mazzo che ho giocato sicuramente non vuoi giocare headless resurrection su action anche se la paghi 3 non la vuoi giocare la vuoi giocare su kaiser quindi devi avere kaiser calare kaiser aspettare che ti killino kaiser e poi headless resurrection può funzionare in mono kaiser per esempio meglio perché la puoi te la puoi andrò a cercare kaiser può funzionare in concetti tipo nasus kindred ti ammazzano kindred headless resurrection oppure una risposta vengeance su nasus però è una di quelle carte molto reattive che finché non c'hai il campione morto e c'hai la scusa di giocarla è un legno in mano una late game card in shurima che non è esattamente la regione in cui vorrebbe stare ripeto il fatto di rekindler è che è in shadow isles non sono veramente molto indeciso tra 3 e 4 stelle su questa il fatto che la puoi scontare a 2 è che tutte le regioni hanno almeno un improviser non lo so 4 stelle beh sarò sarò iper generoso però sia furus wielder che headless resurrection sarebbero più 3 e mezzo 4 stelle un po' riluttanti e utter devastation 2 stelle mo è interessante come concetto siamo perfettamente d'accordo però è una ruination che costa un mano in più che è forte soltanto se c'è i darken ora i darken sembrano essere queste unità enormi gigantesche cazzutissime che tu le calici beh minchia ma questo sta facendo il panico però se dovesse uscire più avanti un archetipo tipo un darken contro una roba del genere forse si per questa espansione non ce la vedo proprio per niente però c'è gioco a ruination gioco a ruination con trindamer l'hai fatto prima ruination con i last breath ruination con headless resurrection ti costa se hai equipato ti costa quasi lo stesso capito non so credo sia un po' troppo e se ti fanno deny su una spell a 11 mana hai perso il game c'è anche questo da dire tra l'altro darken bloodletters non è esattamente un cultist è giusto che ti cala il cultist qui credo questa è una cosa che dovrei controllare credo ci ho pensato dopo non sono sicurissimo che potrei inserire darken bloodletters in mazzi cane cioè non so se Shadori per conta darken bloodletters credo di sì fatemelo sapere nei commenti se la conta la carta è meglio se non la conta è un po' peggio di quello che abbiamo discusso e per finire ci sono altre sette regioni di cui non abbiamo parlato che però hanno ricevuto pochi tool e le discuteremo abbastanza velocemente facciamo le prime quattro che cosa nel cazzo facciamo le prime quattro caccia abbiamo discusso demasian steel umana 1 1 equipment stranamente due stelle gliele do forse gliene ne darei anche tre questo è il tipico questo è un buon target per esempio di forge è un buon target di tante tante zozzerie varie è super power creep alla spell che esiste che è umana grant più uno più uno è cento volte meglio due stelle forse anche tre eh no due stelle silence and suppress distruggi l'equip di un alleato e se hai un follower lo silenzi di un di un'unità e se hai un alleato lo silenzi qui inizia il mio senso di ragno inizia a pizzicare perché sembra che abbiano voluto iniziare a creare degli anti degli anti equip come hanno creato gli anti landmark sembrano voler seguire la stessa struttura e se sapete la mia opinione sugli anti landmark sapete che non funziona quindi il punto di silence e suppress è che anche se l'alleato non è anche se il target non è equipato è comunque un equinox la carta celestial quindi è un equinox oppure spacca un equipment oppure spacca un equipment è equinox è forte tre stelle gliele devo dare però il design non mi piace poi andiamo avanti the dark in ballista concetto simile a the dark in blood letter un mana più 2 più 0 quando mi equippi ti fai un danno al nexus quindi in questo caso hai buone stat per hai stat molto migliori per un effetto negativo rispetto all'effetto positivo che aveva la blood letter puoi spendere 8 mana e invece di calarla come equipment la cali come unità come follower il follower è 8 mana 5-13 overwhelm round end il nemico più forte e io ci colpiamo a vicenda overall peggio della dark in blood letter 3 stelle il fatto di farsi un danno al nexus è una cosa interessante e più avanti potrebbe uscire qualche sinergia riguardo questo non so perché non sono ancora esistita roba tipo warlock di diarstone un archetipi che semplicemente abbia una sinergia col farsi danno al nexus per ora non esiste niente quindi questo è solamente un negativo un mana più 2-0 che cosa il punto è che è in noxus e in noxus vediamo tra poco che c'è un buon equipment quindi potrebbe avere del senso giocarla e la possibilità di calarla come 8 mana non è particolarmente forte naga neka o zuretta non c'ha 2A a trox tilt il fatto di poterlo calare come 8 mana se non altro significa che se hai questa carta ancora in mano super late game non è un mattone ma la cioè non è una carta inutile non è una pescata inutile late game ma la puoi usare come unità che per quanto non sia fortissima comunque è un 8 mana che il suo lavoro lo fa 3 stelle average great hammer 5 stelle sto esagerando può essere 2 mana più 2 più 0 overwhelm praticamente might con un attacco in meno e non è burst ma è permanente inoltre non solo è permanente se la cali sull'unità e quell'unità muore ce l'hai di nuovo in mano sappiamo tutti quanto è forte dare overwhelm a un alleato sì sì perfetto win condition tutta stessa è qua end game great hammer è forte stiamo avendo sempre più modi di dare overwhelm alle unità super charge era la grande novità l'espansione prima adesso abbiamo anche great hammer inoltre lo puoi forgiare sto coso non fatemi iniziare a parlare di che succede se lo forgio heavy metal build water slow spacca un equipment e fai due danni all'unità partiamo dal presupposto che io credo che questa carta possa essere giocata anche se l'unità non è equipaggiata quindi puoi cliccare la sua unità e fargli due danni se è così tre stelle forse sono troppe due stelle se non è così una stella inutile non sto prendendo non sto dando molto valore a spaccare gli equipment perché sì sicuramente i primi giorni dall'uscita dell'espansione tutti quanti vorranno giocare equipment non so però quanto saranno meta relevant a lungo termine quindi il fatto di spaccare equipment non lo sto valutando molto alto però bilgewater una regione che può sfruttare questo tipo di rimozione che non ne ha molte se vai a vedere bilgewater ha principalmente carte che fanno un danno make it 30 un mystic shot slogan non può andare faccia fare una merda ma non è non è così male non è così da buttare via soprattutto i mazzi tipo ravenbloom sta roba qua se poi esistono cioè se tre mazzi su dieci nel meta giocano delle carte con gli equipment ogni tanto gli puoi beccare l'equipment è solo solito soprattutto l'equipment le equipment che come abbiamo detto le forgi fanno vanti dietro great hammer sta roba così c'è del potenziale in questo tipo di carte bookmaster ne abbiamo parlato non so manco perché l'ho aperto catalyst versione 1.0 3 mana equipment 0-0 di stat le tue spell le tue skill fanno un danno in più questa carta è adorabile una stella perché costa 3 mana se costasse un po' di meno ci sarebbe del vero potenziale e no in realtà no 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 che cazzo stai dicendo 2 stelle tra lei e fansmith sono molto costose per le statistiche che hanno però ci puoi ci puoi inventare qualcosa di figo ci puoi inventare qualcosa di veramente bello devo dire che è un po' più sul meme in territorio meme ma non è male jagged cutlass jagged cutlass 3 mana 2-1 equipment plunder costo 2-1 4 stelle proccare plunder non è difficile soprattutto i mazzi che lo vogliono proccare è un mana grant più 2-1 ricordiamoci che è in bilgewater ricordiamoci che bilgewater oltre a essere una regione molto forte ha accesso a roba tipo fizz e jagged cutlass su fizz è una cosa che fa paura c'hai un fizz a 2 mana e hai calato un 4-2 elusive che non può essere toccato dalle spell c'è mica gotica ci possono essere tante situazioni in cui jagged cutlass è forte trova in casa ve ne abbiamo parlato lombat cook furious wilder noxian defector loaded vessel fai due danni in unità pesca una al prossimo round start per ogni danno fatto a quell'unità e dai alle carte che hai pescato fleeting questa carta ovviamente se ne stai aumentando il danno artificialmente con i barili o con tie bulk di base 5 mana 2 danni a un'unità al prossimo turno peschi 2 se aumenti il danno non solo fai più danno ma peschi anche più carte 2 stelle non è brutto come peschino per mazzi forse anche 3 non è brutto come peschino per mazzi come magari ravenbloom ravenbloom bilgewater ravenbloom tf se la giochi prima di tie bulk è una whispered words che fa un po' di più però ti costa un mana in più le carte le peschi dopo prendi fleeting e peggio se la giochi dopo tie bulk cioè se la giochi tipo turno 5 turno 6 non è molto forte se la giochi turno 8 turno 9 dopo aver tirato un tie bulk turno 8 per esempio lo dead vessel può essere veramente solida non credo troverà spazio però uno per potrebbe potrebbe trovarci uno spazietto beh bei calibar quando sono evocato evoca un bei calibar chi per le tue carte nuove credo che voglia dire carte che non che non fanno parte del mazzo credo che sia carte nuove costano in meno una stella infinite cioè in un mazzo potenzialmente che va giga value turbo mega late game potrebbe esserci il potenziale però un mazzo del genere non credo sia realistico soprattutto non in piltover cioè se vuoi fare una cosa del genere vai sul monte targon e inizia a invocare capito ex blade rator 2 stelle se emana 5 danni a una unit non è male ma non è neanche forte se la kill la obliteri che potrebbe essere importante come potrebbe essere assolutamente ininfluente è in piltover quindi la potrei giocare con jace e con tutta quella zozzeria non credo trovere a posto nei mazzi a meno che non sia meno meta dove obliterare l'unità che hai ucciso effettivamente è molto importante abbiamo quasi finito mi fa male la gola regà mi fa veramente male la gola le ultime tre regioni buri d'armory un mana landmark countdown 2 crea treasure of the sand treasure of the sand è 3 mana 4 4 equipment quindi treasure of the sand è praticamente 4 mana più 4 più 4 e devi aspettare un turno 2 stelle forse ci sarà qualche tipo di sinergia per perché in qualche mazzo magari vuoi tante carte con countdown però boh cioè dipende da quanto è forte questo tipo di equipment però a face value io vedo 4 mana grant più 4 più 4 e devi pure aspettare il countdown non credo chietus chietus umana slow shadow is kill un'unità con 2 o meno potere o spacca l'equipment di una unit 5 stelle borderline 6 sta roba è veramente forte ora mi sfugge il nome scusate la devo andare a cercare perché è un esempio è un paragone super banale ma mi deve venire perché se no esco pazzo cioè se non riesco a nominarlo esco veramente ma cooling strike è praticamente cooling strike sì lo so ho fatto un casino per andare a cercare cooling strike non mi veniva il nome sono due ore che registro abbiate pazienza è praticamente cooling strike per 2 di attacco o meno invece che 3 di attacco o meno e cooling strike esiste all'inizio del gioco noi sappiamo come funziona cooling strike cooling strike va a punire alcuni tipi specifici di unità che hanno un costo medio alto un effetto molto forte sul terreno e poco attacco veigar ezreal zo cioè zoe la rimuove a parivalio però immagina quietus su veigar immagina quietus su se c'è un meta in cui quietus è decente quietus è fortissimo anche perché la possibilità di spaccare un equipment non è da poco cioè per dire la puoi pure tira su kain l'avversario tira kain e se tu c'hai immediatamente quietus lo puoi killare per un mano ripeto kill a unit con 2 o meno di potere può essere veramente meta breaking per un mana questa cosa non la puoi negare cioè anche se c'hai nope vai sotto è troppo è veramente veramente forte ovviamente quietus per quanto sia fortissima ha un buon design puoi giocare intorno a una carta come quietus semplicemente conservandoti il mana per gli attack buff non cali kain quando non c'hai mana cali kain quando c'hai il mana per un attack buff qualunque gli attack buff avranno più value se quietus diventa molto presente nel meta ovvero l'ottima carta the dark in alberd un mana più 2 più 2 killa un alleato per giocarla quindi immediata sinergia con roba tipo nasus non credo sia particolarmente forte in quel tipo di mazzo perché non ci sono molte unità a cui cioè spendi un mana per dare più 2 più da un'unità preferisco killarlo in un altro modo di un alleato però è una possibilità puoi spendere 10 mana invece per calarlo come tarosh qui si è la sorricordata la doppia 10 mana 10 10 fearsome ogni round la prima volta che attacco riempi il tuo board di attacker con copie e ephemeral di tutti i follower più forti che hai evocato questo game praticamente una sorta di harrowing per le unità che hai ammazzato invece che harrowing per le tue unità a morte normalmente 3 stelle normalmente sulle altre due quindi sulla blood letter direi che metà della metà della forza della carta sta nella blood letter metà ne sta in xolani nella balista direi che buona parte della forza della carta sta nella balista qui direi che buona parte della forza della carta sta in tarosh sicuramente vuoi un mazzo che possa sfruttare dark in albert ma questo è quel tipo di carta che se ti serve early o se è comoda early la giochi early un mana più 2 più 2 ti spacchi una unit e magari procchi un effetto però se arrivi a 10 mana cali tarosh tarosh da solo lo giochi l'avversario non te lo sta ammazzando attacco board pieno di roba hai fatto harrowing praticamente anzi meglio perché poi ti campa il tarosh questa potrebbe essere un'alternativa a harrowing in certi mazzi non è da sottovalutare se kindred nasus sfruttasse meglio il più 2 più 2 su un'asta su un'unità sarebbe decisamente molto forte ceiling steel obliterà un alleato e crea una corrupted form con le sue statistiche la corrupted form è una è una 3 mana equipment 0 0 quindi obliteri un alleato e crei una form con le statistiche dell'alleato sinceramente una stella però c'è del potenziale non ci sono molti modi in rontera di rubare unità all'avversario e quelli che ci sono generalmente sono cioè già costano molto e non sono molto efficienti però se esistesse un modo per rubarle gliela rubi ci attacchi magari e poi la trasformi in un'equip oppure gliela rubi oppure in genere cali un'unità magari con delle statistiche enormi però con dei grossi svantaggi e dopo sealing steal il problema è che devi spendere 2 mana usare una carta e dopo ti crei un'equip che costa 3 cioè se costasse 1 questo e 0 questo qualche applicazione la potresti trovare così è ingiocabile shersis ne abbiamo parlato darkin lodestone targon 2 mana 1 1 support grant all'alleato più 1 più 1 ottimo effetto puoi spendere 8 mana per calarlo come orazi orazi 8 mana 7 7 spell shield support aumenta cioè cresci le statistiche dell'alleato alle statistiche di orazi e gli da tutte le keyword positive questa è un'ottima carta 4 stelle sia forte come equipment 2 mana 1 1 support grant a un alleato più 1 più 1 mazzi tipo taric vorrebbero roba del genere a tutti i costi e orazi non è male 8 mana 7 7 attacchi con orazi e un'altra unità l'altra unità cresce a essere come minimo 7 7 spell shield se aumenti le stat di orazi aumenti l'unità dell'alleato se dai keyword a orazi dai keyword all'alleato è praticamente taric cioè è taric synergy può essere giocato in mazzi senza taric molto valido molto molto valido dal kid lodson nessuna delle due è particolarmente overpowered ma entrambe sembrano abbastanza solide malefic spear 3 mana 2 1 se un alleato è morto questo turno costo 2 meno fearsome quindi da o più 2 più 1 è fearsome è una sorta di della scimitarra di di bilgewater però do anche fearsome penseresti che gli do più stelle di bilgewater in realtà gli do di meno 3 stelle questo perché come ho detto prima mazzi come kindred nasus non li ho visti molto nelle loro forme più recenti quindi magari la sfruttano bene una cosa del genere ma in genere mazzi del genere cioè mazzi come kindred nasus non vogliono giocare una carta spendere del mane soprattutto spendere una carta per baffare le stat di un'unità non è quello il loro gameplay quindi nel mazzo in cui avrebbe più senso giocarla non ce la giocherei evelyn viego non ce la giocherei cioè è strano sto discorso la carta fitterebbe molto bene in quel mazzo e quel mazzo che non vorrebbe esattamente questa carta capito stesso discorso con la talking questo tanca un po' il vuoto perché di base la carta sarebbe molto forte draconic bands 4 mana più 3 più 3 fury e il mio berre è un drago quindi la equippi su qualcosa qualcosa diventa un drago c'ha fury c'ha più 3 più 3 2 stelle credo sia troppo costosa dare fury a un'unità non è male e siamo in targon quindi questa roba la potremmo giocare con con fated forse 3 stelle però mi sembra un po' debole non ce l'ave no 2 stelle dai ma preferisco dare 2 stelle e sbagliarmi piuttosto che dare 3 stelle a tutte le carte di cui non sono sicuro ho già dato male 3 stelle a maledict spear la carta non è male ma non so dove potrebbe mai essere giocata per finire celeste l'impact 2 stelle è praticamente falling comet la la seimana la spella seimana celeste però costo mana in più ed è main deckabile ora in certi momenti in certi meta in certe situazioni vorresti averla main deckabile una carta del genere certe volte invece dici la la falling comet è forte solo perché non la devo main deckare e la posso tirare fuori quando mi serve dipende un po' dal meta dipende dai mazzi che si giocano ricordiamoci che siamo in targon e targon overhaul è molto è molto bassa a rimozioni quindi soprattutto un mazzo che può permettersi una roba tipo targon speak vorrà giocare celeste l'impact tuttavia le voglio in realtà 3 stelle gliele dovrei dare non volevo da 3 stelle a tutto ma 3 stelle alla celeste l'impact l'ultima carta gliele devo dare perché più ne parlo più effettivamente mi convinco che aurelio sono mazzi che ancora giocano sunburst che 6 mana silenzia e fai 6 danni 7 mana obliter a un unità è più forte e inoltre puoi obliterare un landmark che è sicuramente incredibilmente costosa come cosa potevano fare in modo tipo obliter a landmark e pesca 2 per dire però una risposta a un landmark che costa 7 mana è meglio di non averla una risposta a un landmark perché per esempio il landmark in sto periodo non mi vengono i nomi stanno troppe carte in sto gioco la star spring il landmark di sorakadam kench dici si costa 2 io non vorrei mai usare 7 mana per ammazzare una carta che costa 2 ma se le alternative sono 7 mana andare sotto di 5 mana o perdere il game perché il turno dopo ti chiude di star spring direi che ti prendi il meno 5 mana quindi overall celeste l'impact viabile in qualche mazzo sicuramente soprattutto al massimo mazzia aurelione adesso stanno vedendo un po' più di successo oh mio dio due ore di video mi fa veramente male la gola non so se mi ha mai fatto così male la gola per aver registrato un video vi saluto con questo come avevo detto ci saranno aggiornamenti sul canale ma ci vorrà ancora almeno una settimana prima di poter parlare di queste cose quindi per ora vi saluto ci rivediamo al prossimo video che sarà quasi sicuramente un'analisi di gameplay dopodiché raga a meno che la riot non mi fa uscire la patch o la prossima espansione nell'arco di 20 giorni io la voglio fare la tier list dei campioni cioè avevo tutto pronto ho la ho la spreadsheet pro cioè ho la tier list pronta da farla devo soltanto mettermi lì qualche giorno non registrato non ci vuole niente sono praticamente arrivato però poi la riot ha detto no ma lo sai che facciamoci l'espansione mi dispiace che questo video è stato anche magari soprattutto l'inizio potuto sembrare un po' un ranto un po' una cosa ma ripeto quello che ho detto e poi veramente vi saluto quando parlo di quando parlo del gioco in questi termini non dico queste cose perché perché voglio odiare il gioco non dico queste cose perché voglio fare quello che ha guarda dice le cose strane controcorrente per fare drama per fare views assolutamente no lo dico perché amo questo gioco e voglio vederlo avere successo non lo vedo avere successo vedo dei problemi molto molto radicati proprio nella struttura del gioco non posso fare altro che chiedermi se le cose sarebbero meglio se sistemassero le cose banali che se lo vedo io che le devono sistemare immagino che una squadra di game designer riesca a vederle insomma queste cose va bene due ore e dieci minuti l'ultima cosa che vi dico è che se siete arrivati fino a qua siete veramente dei king se siete veramente dei king non vi cioè proprio vi prenderà pochissimo tempo hittare like e hittare subscribe se non siete già iscritti buona serata a tutti e ci vediamo con il prossimo analisi gameplay